Parliamo ci sediamo faccio il giudice io colpevole Non sei il padre Maury ti prego Comunque raga Siris lo starto già intanto io ho il tempo di aprire minecraft E' la prima volta che vengo più tardi di voi Come mi sentite? Cosa? Brava Nati Ma che strano avviare un mod pack 42 mod Cioè il mio compito dice Wow Questa finalmente sta avviando solo un pacchetto Comunque raga ci sentiamo nel server Mi muto Ah no aspetta non mi posso mutare giusto Scusa Martino Scusa Martino Ah mi cazzo Allora sto Siris c'è Tu Guarda c'è fatto il server Sì ora Minchia sta già Luke dentro stava aspettando Allora ok c'è stava cliccando a mezzo E' perché tutti siete abituati che solitamente l'abbiamo 15 minuti prima a volte Però stavolta è che con il lavoro con i problemi che abbiamo avuto L'importante è che da domani siamo un po' più liberi Cioè nel senso che comunque è stato Mi sono sentito male a un certo punto per causa del meno Mi sono sentito proprio stressatissimo Però dai almeno abbiamo capito come fare Adesso sappiamo come fare Cioè comunque se dobbiamo risolvere solo l'ultimo bug Che secondo me quando abbiamo tempo lo faccio E' la fase ragazzi Test mod Test server No cosa Sì test server Domani praticamente anche da solo serve Martina Puoi anche non venire domani se è libera Cerca di... Anzi mi dispiace che ti sto in stegioni rompendo i coglioni Cioè il truccitalio Qualcuno lo troverà A me Allora molti giocatore Aggiorna Eccomi qua sta arrivando Merde Io ti prego Allora Martina Mi è stallato Ti prego Preferisco non usare gli assedi Che domani mettermi a mettere Una moda alla volta Ti prego Non funziona Va bene Mi va bene Anche se sono sicuro che non è quella moda comunque Qua vedro Ma mi gioco le palle Che io devo essere stressato fino all'ultimo secondo E Martina aveva ragione Non è quella moda Cercavo di smitarmi Ma purtroppo Certi brutti comportamenti restano E quindi Un po' mi aveva dovuto scontrire con la tossina Purtroppo Ah se mancava qualcosa Anche a me non si avviava Quindi Non credo sia quella E niente Beh è impossibile che sia quella Vabbè domani ci penso io dai A una a una Ma come hai detto tu Le butto dentro E te siamo tutte le monte Ciao merdine Benvenuti a tutti ragazzi Oh mi dissocio da quello che ho detto ragazzi Chiedo scusa Come andate Come va la vostra vita Un rider che non l'avrebbe mai detto Hai visto Io l'ho chiamato E mi è arrivato Ma anche posso darvi un consiglio Non giocate a League of Legends Un consiglio molto onesto Pulito Ciao Auri Allora ragazzi Abbiate pazienza Grazie per il follow E benvenuti dall'arancia Grazie a tutti ragazzi Grazie Vi ringrazio Vi do un bacio Adesso torniamo su Su Osiris Oggi vedrete un po' di rp A chi piace rp A chi piace minecraft Vi consiglio di rimanere Effettivamente Per osservare Quello che sta per succedere Allora Prego Io Eleggo Consiglio della Io Eleggo E visto ragazzi E qui la discussione No ragazzi Qua siamo tutti buoni Tranquilli Siamo i bravi A me non piace discutere In realtà a me non piace Essere rotto il cazzo Sono molto più sincero Anche ragazzi Benvenuti sul mio server minecraft Io sono il doge di questo paese E ora mi tocca fare le cose Degli altri Prendere il libro Leggere Stipendi pagati Hola Hola capo Aspetta Ciao Ho dimenticato di un particolare Ciao capo Ti devo dare lo stipendio Lo vuoi siano lo stipendio Paghiamo? Paga? Si paga a me Si paga Tu devi pagare anche le tasse Eh le tasse Paghiamo lo stipendio Un attimo E con calma Allora Una gentilezza Chi è che deve pagare qui? Chi è che manca? Oh Wolverine È dentro già Emozionante Che ha fatto? Eh? Che ha fatto? Allora Samiki 12 Che c'è anche nati nel server oggi Allora Signor Quanto le devo? Si ricorda lo stipendio di base? Eh Tu Sei alla 90 E io pago 50 Paramo Io non so quello che impagano Se di tu Sto andando a fiducia Sto andando Tu da questo lato C'hai Le due attività Hai ragione Cosa? Cosa? Dopo al di armatura Ok Ah no è finito Non è finito Cosa è finito? Accorda No non è finito Una sessione L'ultima sessione E lei ha finito il suo lavoro maestro Ok Va bene? Va bene Allora adesso prendo lo stipendio della mia moglie E prendo lo stipendio mio Io prendo 90 Come sempre Mi autopago lo stipendio E poi dobbiamo prendere 100 Ah no io 100 Ah Nati prendo più soldi di te 40 Io pago C'ho il negozio da falegname La casa eccetera 60 Nati c'ha 15 30 55 60 Ok Nati anche ha pagato le tasse Eh noi prendiamo ragazzi Lo stipendio statale E' bello avere lo stipendio statale Solo non tutti lo prendono Eh Un po' alcune ho pigliando il culo Oh c'è l'intouch Il maestro Allora Concordo La piccola Nati ragazzi Aspetto un giorno in cui avrò anche io lo stipendio da vescovo E quello sarà un giorno lontano I vescovi non vengono pagati Voi chiedete Soldi al popolo Soldi al popolo Intanto vado a posare i miei soldi In casa Quasi Aiuto signor Ciao Valoros Buongiorno Come va? Eh bene signor Doge Volevo chiederle una cosa Un prestito? No Ah Volevo costare un terreno Ah va bene Mi dai due secondi Poi fermiamo insieme i documenti Certo Ok Certo Intanto faccio una cosa Si prenda intanto lo stipendio E paga le tasse se devi pagare Ricordassi il quaderno I due quaderni Va bene Va bene Subito arrivo Va bene Ciao sono nuovo Come si fa la whitelist? A proposito c'è una nuova persona Dobbiamo fare la whitelist a quella persona Vabbè io ho fatto una strage oggi Domani Se non vengono un paio di persone Le faccio sparire da server Tu oggi non vuoi cenare? Nati non ho molta fame Sono sincero Però se aspetti più tardi Sicuramente abbiamo fame C'è il spaghetto con Già pronto lì Perché allora Domani mangiamo il brodo Volevo farmi la camomilla Allora me l'ho fatto dopo Si si Che Nati Perché sei con la bucchiacca? Eh? Vuoi il b... Eh? Non meno male Non senti Sei stanca? Pensa io che sto da 8 ore lavorando E abbiamo fatto una cosa Delle cose che abbiamo Preimposto io e Martina Io mi lavo i piatti e poi Povera me e Martina Stiamo lavorando come cani Gesù Cristo Dov'è il tuo piatto? E poi stiamo prendendo di fretta Secondo me Ci stiamo troppo prendendo Sul serio la cosa Donde stiamo correndo Martina? Donde stiamo un po' correndo? Forse Oh domani risolviamo Allora domani risolvo le mod Ma prima mattina Metto a caricare le mod Una alla volta Vediamo qual è quella Che fa cresciare Oh se la togliamo proprio Togliamo Salve tra un po' Vengo pure io Tranquillo Comunque la tua amica Può entrare da venerdì In poi da Sever Che domani Faremo la whitelist Domani mattina Anzi stanotte dopo il server Gli scrivo io Oppure Adesso magari gli scrivo Se domani è disponibile Per un appuntamento Quindi prendiamo un attimo L'appuntamento adesso Che me l'hai ricordato Ho visto la cassa La pausa Perché dobbiamo lavorare La pausa perché dobbiamo lavorare La Siris Martina Allora hai fatto Sì sì ho fatto tutto Allora hai pagato anche Del liocca No Ecco non ho pagato Ah no c'è scritto liocca Sono un coglione Avevo letto un altro nome Allora Pensavo avesse pagato Penso Ho detto Vabbè Non manco mi ricordavo Allora Tu hai detto Che devi comprare Un terreno Giusto Sì Ah intanto Mi faccio fare un po' pulizia Perché alcune persone Non verranno più Ad esempio Probabilmente anche lui Lui c'è Lui c'è Lui c'è Lui c'è Loro ci sono Lui c'è 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 Noi due ci siamo Lui c'è Dove c'è Ah quelli che vengono Non sono mai venuti Penso nel server Giusto E quelli sono scritti A blackwood Allora Allora Facciamo una cosa interessante Lei deve pagare la terra Dove abbiamo messo Il suo documento Qui vero Eh sì Qui dietro il due O l'uno Salve Filippo Buonasera Valeriano Ciao Ah ok Allora un attimo solo Signor Filippo Senta Dalla voce Tutto eltico Tutto biondo Tutto ariano Tutto tutto Eh È così che si veste Mi piace Intanto 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 Face flexare i soldi Sì Mi piace flexare i soldi Si è capito questo Ma non è vero Adesso che si spendo Anche perché Filippo No C'è Azruvara Che mi devi pagare Che non mi ha pagato Adesso perché deve pagare Perché faccio il macellaio Perché hai fatto un servizietto No Faccio il macellaio Io sono E hai fatto il servizietto Allora Sono una persona Moralmente accettabile Perfetto Accetta È per amicizio Ah sì sì Va bene Eh Su Ma perché Allora Mi devi Dimmi tutto Dimmi tutto Perché è scemo Allora mi dica E allora Il terreno Però prima In realtà Volevo Sì Perché non sono sicuro Che il terreno Sia preso o no Posso andarlo a vedere Se non ci sono Quattro cartelli Nessuno l'ha preso Ma perché C'è scritto tipo Inizio della foresta Di Kiwi Ah Ok Praticamente La zona della sua foresta Devi chiedere Se puoi Edificare lì Sì sì Vabbè Gli spostiamo alla foresta È per fare Quella Quella Non credo Che per tre alberi Sì vabbè Per tre alberi Sì Perché se no Adesso Adesso do aspettare Che entri No no Vabbè Sento in live Martina Rispondi Fuori RP Può costruire Comunque una casetta Nella zona Quanto è la struttura Così glielo dico Quanto è la struttura Un 20x20 Poi posso Sì Posso comprare Spostargli la foresta Più indietro 20x20 Ma dove lo puoi mettere? Dove va Questo 20x20? Ha scritto Sto cazzo Quindi non credo Sia contento Sono tre alberi Sono tre alberi Esatto Ma che area? Che area? Che area? È quella lì A fianco alla chiesa No no A fianco alla chiesa Non è a fianco alla chiesa E scusa Gli alberi sono piantati Quella lì A fianco Non è A fianco A fianco alla chiesa Però è vicino alla chiesa Ma ci sono gli alberi In quel punto Adesso non ci sono Ma c'è scritto Allora Parla con lei Fai vedere la struttura Ah intanto comunque Questa è terreno Terreno più Comunque il terreno Lo prendo sicuramente Quindi è un'attività? No È una casa Ah Terreno più casa Ok Quanto? 20x20 una casa? È perché è il circolo Quello che ti dicevo Ah Circolo sportivo Sì No L'associazione culturale Sei utile su cose Riguarda Riguarda Quasi esattività Un regalo Ok abbiamo fatto Mi devi solo dare 20, 40, 80 monete 80 monete? Sì Per il terreno 60 più 20 1, 2, 3, 4 Ah che deve pagare le tasse Wolverine E Felipe Giusto? Ok Ok vi lascio con il signor Tesoriere Visto che comunque deve aspettare la signorina Non ti aspetta neanche lo da Daniel Sti scudi Io non ti do Ah che giusto Ce l'ho Daniel Abbiamo finito Daniel L'affare E pagami Può avere il 2 di Ossidiana Poi ho 10 10 Vabbè aspetterò Kibi Eh non lo so Di appresso Eh per forza Che mi puoi offrire Efficienza 4 Ok Sto cazzo Ma chi mi ha messo un buonnezza nei zaini Porca puttana Vabbè Il dardo antico Metti qua dentro la roba Hai visto cosa fa? No Metti qua dentro la roba Metti qua dentro la roba Ma non ce l'ho io la roba Mi ha dato 4 scudi Eh quei scudi Gli altri scudi Se li sono inculati gli altri Per cui ti ho detto Prendete quello che volete Sì ho capito Mi devi dare le armature Le spade e la roba Ma per malo vado a farlo Eh allora Che cazzo mi fai mettere a fare lo zaino Dai a prenderlo Spagai ho i soldi Che vuoi pagare? Tutto Le tasse Eh dov'è signor Che cazzo ne so E pagava che le tasse A muovere Ciao Ok Venga signor Dov'è l'otto? Zingaro Io Tu mi devi Hai quante attività attive? Sì Eh Due Tu fai solo due attività? Sì però Ho tre Tre lavori Ma due attività E qual è quello che non fai? L'ingegnere Ma se ti ho visto lavorare l'altra volta No Tu mi hai fatto a me il cartello Come no? Eh sì Eh Ah no No tre 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 No scusi Eh dammi 75 allora Ok Quindi hai un'attività con due attività Perfetto Sì e mi pare che c'è anche scritto Ingegner del male Che ti aveva detto Tieni ti quel buco Lì tieni in ingegneria Eccetera Tanto lo sappiamo che sei tu l'ingegnere Ah Quei 75 Sì Ma vedi che per Hai parlato poi con Calogero Che voleva la terra La farmaciana da zucchero automatica No Bravo Complimenti Sei proprio bravo come ingegnere Ok No Ti Eh tu ho dieci anni Quindi faccio altro Ah 75 Allora Wolverine appagato Pizza appagata Qua devo scrivere Ed school Prendi questo foglio Già un pizza Wolverine Vai Signor Mi devi soldi Tieni Uno Due Ah 80 mi devi dare La casa che dormi con tuo fratello Quella non è che da adesso Bravissimo Tu si che sei un onnesto cittadino Sì Arrivederci Prossimo Solito signorina Sì oggi è anche il giorno di paga Se non sbaglio Allora Hai anche ragione Quindi devi dare 64 E 14 Ecco qui Ecco a lei segnalina Ok A breve sta per arrivare di nuovo Fredo Lo sai Siamo inizio attunno adesso Eh non ce l'ho vista Ho visto Sono venuto proprio a guardare per quello Eh E Fredo ritorna Guardare che Che stagione fosse Ah per saperlo basta comprare questo Dalla cartiera Ah ma Faccio prima a venire al comune Guardo là dietro Dietro la scala Anche questo è vero Però quello se non l'aggiorniamo noi Non è proprio così Eh vabbè pazienza Giusto la pazienza Poi Poi Allora Prima Prima Guardo Di avere un bel po' di soldi Poi visto che mi han già detto che E poi cosa ci fa con tutti sti soldi Prima vediamo di pagare Di farci una casa E di cercare di vedere quanto pago Per la casa di tasse O in caso mai andiamo a fare acquisti Ah beh è anche ovvio È anche giusto Ma più che altro A che punto siamo poi con le strade Cioè sono quasi completate Eh adesso sto facendo un attimo La casa di Kibiso Ah sì è vero Abbiamo fatto la sostituzione Giusto Sì però Vabbè Sono 110 In teoria Mi manca soltanto Un quartiere Ok meno male dai Va bene No No lancia lancia Aspetta Aspetta Ok Questa me li prendo Tieni Daniel Ah le do Metto Dove metto Tieni 80 Non qui perché è pieno Sperate che c'è un altro Va zaino vuoto Ah eccolo Andate qua dentro Allora a te ti ho dato 80 A te ti devo Come ricordo 85 Manca una sessione Abbiamo finito con le frecce Ah 85 Mi devi dare 25 Siamo a posto Così hai pagato anche le tasse Non ti do i soldi Mi paghi solo 25 Ok Ah Eh sì Facciamo prima così A posto Abbiamo pagato quasi tutti le tasse Complimenti Mi fa piacere quando è entrato una volta Così evitate il problema Ok Prego prego E lo zaino è mio però Lo zaino è mio Lo zaino è mio Aspetta Sì è questo Allora signor Simon Dove sei? Deve fare un piccolo piacere Deve aggiustare lo scudo E l'armatura Da doge Da doge Vieni Che io lo zaino è che io la devo dare al cristiano Ah Ma è tutto Come il derubo Il doge Tutti i soldi qua Perché devo comprami Le cose Bravo compra compra Tu non stai comprando più le mazze Da me Bastato Le stai craftando No no Perché mi hai portato una volta Da me sono aumentate Basta Cosa? Le mazze Eh vabbè Eh ma perché abbiamo cambiato moneta Che fai? Te la menti pure Allora Eh ma scusa Ma ne so Mi dai anche del truffatore Intanto prendi l'armatura Ah no Hai detto che la devo aggiustare io Ma lo scudo posso ripararlo? Ah sì Ok Allora venga un attimo Che prende Prendo un attimo i soldi E poi prendo le chiavi del falegname Allora Questa è la chiave del comune Le poso Chiave Falegname E chiave Casa per i soldi Cosa ne pensi della mia ender chest Presa in modo legit La mia Andiamo maestro Allora Maestro Allora no Ti devo dare la striscia Eh sì sì Oggi voglio dedicarmi un po' ai miei negozi Quindi Qua non credo che manchi tanta roba Alla fine c'è tutto Una barra giusto? Tiene No Infatti stanno aspettando Eh sì Secondo me è meglio Ora Andiamo Non fa niente Che viene più tardi Non è che moriamo Vado Oh Oh Mi chiede hanno svuotato Zio A me è esatto Appunto Appunto Sono accoprate 8 e 4 stack 8 stack di ferro E 4 stack di oro Che non basteranno Comunque L'embil è qua Ah è vero Ti ho dato un attimo Eh ma mi servono Eh ma mi servono le scappette Comunque Perché mi sembra che Si sono rotte O le ho perse Dove è il ferro E l'acciaio Come faccio a far Aggiustare Il scudo Non si può aggiustare Non si è giusto Lo scudo No Cazzo Vabbè Allora dopo Io lo rifaccio Guardane Quanto cazzo Mi costa Riparare la roba Ma quanto è danneggiata Tantissimo Minchia Mi conviene Farla nuova Vero Quanto le richiede 16 Solo il caschetto Eh no Allora Travaccio il tente Una bella Fonduova Eh tiene Intanto ho aggiustato Le scarpette E il pantaloncino 32 Sono No ma non ce la fai No Lascia sempre Ma è meglio se me la fai nuova No ma è meglio se me la fai nuova No ma più che altro Meglio se me la fai nuova È proprio scassata A sto punto Non fa niente Vai fammela nuova Mi devi fare completa La voglio completa La night armor Completa Mamma mia Mi hanno solo 18 di ferro Com'è solo 18 di ferro Felipe Vendes Io ora lo sto andando Ora ce l'ho un altro ferro Io dopo vado a comprare 8 stack di ferro E 4 stack di ore Ma da chi? Da Felipe Cazzo Cazzo che ne salta Un pochino Secondo me sono pochi Comprati più Lo scudo invece Devo rifarlo Mi sa Vabbè appena si rompe Mi fai lo scudo di nuovo Con la fenice qua Che cazzo La fenice Allora Ok Martina Già si è resa Per i server Pidane Ha detto Non vuole più lavorare No Eh minchia Ci credo Vabbè ma non c'è rimasto Chissà quanta roba Dobbiamo solo Devo solo vedere Far funzionare Tutte le modi nel server Devo risolvere Il bug del menu Ma quello Lo facciamo alla fine Quando dobbiamo fare gli ultimi ritocchi finali Poi devo lavorare Il trailer del server Devo scrivere il regolamento Devo buildare Ma io domani devo andare A ritirare i documenti Allora La dottoressa Vero Domani devo ritirare L'impegnativa medica Domani pulisco anche La lettera di lì Lei oggi c'è L'RP Non mi figura Non possiamo Andrima che hai fatto In pancia Che sei rossa Si è grattata la guancia Che cazzo Qual è il metodo Che sta usando lei Armet Con il pezzo di sopra E poi la knight armor Scarpette Prezzo Le gambe E corpo Signore Ma lei Faccia Lavoro così lentamente Una spada di diamanti Forte Quanto mi costa Qual è la spada Più forte che hai La spada Più forte che hai Qual è Allora Aspetta un attimo La spada Più forte Sarebbe questa qua La zaiando Ah questa Però Per uno come lei Che Non so se lei va di colpo critico Che salta e colpisce Si Sono da scudo spada Si salto Mi butto addosso Ok allora Guarda Ma lei tiene Lascia ne deriva Lascia ne deriva Un po' un cazzo di danno Vabbè fai Questa qua La puoi pure upgradeare Nella La spada che ho io Ok Voglio anche Lì Incantarla Devo poter chiamare Pizza L'Enchant Vuoi pure La flame Blader Aspetta Aspetta Quella che ho io È la È la Stua arma Solo che è più forte Perché dà Un effetto Che ti toglie i cuori Vabbè Intanto facciamo l'armatura Ah è pronta Ah ok Questo qua viene a fare uno stack Ok tieni Faccio una cosa Cosa è quel sacchetto Cosa? Quale? No niente Facendo una cosa Strana Che mi dava fastidio Avere 10.000 pezzi Mi sono aggiustato L'armatura con i pezzi nuovi Tanto non mi serviva Tanto finché non si rompe quella Di diamanti Non me cambia Ti ho dato i soldi Ok questo era Vado da L'Enchant Va bene Ok Ti mangiano anche queste? Sì sì Tutto mangiano Perché Timo Dani Non lo so perché Vuole vedere Ci stava Ah sì Ah scusate A molle ho letto Esti messaggi L'avevo proprio visti Troppo distratto sono Perché c'ho le chiavi Della pallina Andiamo a riappresso Vabbè Ero qui Che cazzo vado Della mannaggia a me Devo mettere Andiamo a 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 Non mi ricordo Dove l'ho trovato E poi Non gliela devo Tagliare Qualcuno me l'ha Regalato Cosa? E poi Così sono Troppo grandi Per loro DMR Addio Ormai I colpi Costano troppo Finché non Non si abbassano Il costo Dei prezzi Sì Va bene Io li taglio Per far Sembra di più Vado Dall'Enchanter Dove sta la pizza? Eh Non so Ma asco Ghamaya Io Don't La boona Don't Ke Deve Una E Don't Don't Ann Ha 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 Grazie a tutti. Io? Ma che ho fatto io? Barone non viene mai. Barone ha i negozi proprio svolto. Oh, ti soppini. C'è la carne. No, ho finito tutto qui. La gente compra. Lui dorme. Hai visto i piatti nuovi che ho messo intanto che viene a sdruire da Felipe? Eh sì, l'ho visto, l'ho visto. No, è buono. Io sto comprando un po' questo riso qua. Sì, ma ho messo una cosa più forte. È abbastanza fotte quanto qua. Andiamo, Felipe. Che devi incantare? Ah, questa. A spain slider. Ma come questo coglione togliersi la roba che hai in faccia mia? Oh, scherzo. Guarda. C'è un arabo sotto copertura. Ho notato. Fai salutare il sora che da un po' che non lo vedi. Mi ha detto che devi salutare il sora. Dov'è il sora? Fa la zarpati a rompere il piede di allozzo. Ciao, la zarpati. Oh, sora. Che calina, come va? Freddo. Vabbè, non frega, è proprio un cazzo. Vai salutare il sora, danno. Vai su. Ho salutato il sora, ma mi fai l'arma. Guarda, sei contento. Fai lì, vai. Quanti livello mi servono? Che livello hai? 16. 13? 16. 16. 16, compilare? Io ho 26, non basta. Complimenti. Vammi un attimo con la spada di merda, vabbè. Ah, comunque ha detto Simon, dietro di me, dietro di te, che doveva comprare 9-10 stack dati di ferro. Lo so, ma non le vuole. Ma non è vero, però io dopo passo. Ma passa già subito, è lì pronto, tivo. È vero. Dai, comunque io ho uno stack della Frost Steel, volevo fare l'armatura, volevo fare l'armatura quella di Giaci. È molto bello. Però guarda che ti rende leggermente più lento, eh. No, ma è solo estetica. Poi anche la spada fa schifo. Ah, perché sì, nella prossima patch viene poi aggiunto l'estetica. Verso fine gennaio. Ah, buono, buono. Vabbè, adesso... Sì, ma... Capo? Arrivo. Quanto mi paghi tu? Vuoi un sacco di soldi. Eh, quanto vuoi? Come 40 sul Betto? Vuoi un 300 collaroni. Non ho più un libro, cazzo. Pian piano, più penso, quanti soldi devo dare a pizza, più sta venendo a piante. Daniel, vai a comprarmi un libro. Qualche libro. No, è la stessa. Ferma, 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 ferma. Aspetta, guagoleli, bro. Guarda, facciamo... Che cazzo guardi? A me qua, vediamo. No, non ti ho toccato niente. Subito a pensare che Doge ruba, boh, io non so. La stagione di oggi. Visto che non c'è mai di compagni, io vi faccio questo. Anzi, faccio quel piccolo, magari... Mamma, mamma. Ma ho sentito qualcuno? Oh, Tieni. Salve. Salve. Salve, è un negozio. No, è casa mia. È un negozio. Qui bene, frega, è un cazzo, è casa mia, questo. È un negozio. Madonna, quanti libri da con fortuna, tantissimo. Faccio prima compagni le librerie e farle con fortuna. Bene, cosa ci guadagna. Facciamo per domani? Ma stai proprio zitto, poi. Poi non ti assicuro che esca qualcosa di bello, eh, però. Vediamo cosa posso uscire. Eh, io spero qualcosa di buono, scusami, eh. Perché sono qui che dedico la mia vita al paese, voglio un'arma che... Sicuramente... Cosa voglio dire? Più volte mi incanti... Cioè, più l'incanto viene fuori bello, più mi devi fare, eh. Adesso lo posso. Sì, va bene, basta che mi dai star mani a cantare. Oggi è il mio giorno libero, non sto lavorando. E tu mi fai vedere tempo. Che cazzo è stradolzare? Siamo a sferzante tre. Ah, cazzo è stradolzare. Ah, cazzo è stradolzare. Ti ha mettiamo un altro libro. C'ho pochi tentativi, ecco, ti cazzo è stradolzare. Vai, 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 non ci incischi, tranquilla. Ho tanto soldi. Cazzo è al bacacare. Ho un libretto qua, un libretto uomo, uomo, uomo. Vicenza 4. Tu, 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 tu. Io ho visto qualcosa che mi è entrata nella festa. Tipo Luxor. Andate, mia figlia, posso chiamarla Luxor? Oh, no. Però no Luxor Gold, Luxor. Luxandra. Luxandra. Oh, sto cazzo di Contraccolpo 2. Oh, mi sembra un bel suono. Oh, mi sembra un bel suono. Oh, mi sembra un bel suono. Ah, mi sembra un bel suono. Un bel suono, cazzo. Ah, tema 5. Ah, 10 da, 20 da 39. Ah, 10 da, 20 da 39. Ma non è male. Che dici? Ok, ho ancora 3 trial. Vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Vai. Che pezzo 3. Vale, io faccio più la pezzo 3, vada come vada. Buona fortuna. Eh, ma mi sembra scammato già. Porca puttana. Che sciro. Che culo. Spai che metto lì a prima sto giro e poi ti dico. Mamma mia che culo. E almeno, dimmi cosa è uscito. Cazzo, te lo dico, mi fretta. Certo. Oh. Sì. Uno va sempre di fretta. Allora. Ma poi che cazzo è sta roba. Allora, è uscito. Inostitibilità 3, che è buonissimo. Sì. Affinarezza 3, che è... Affinarezza 3, che è... Affinarezza 5, 3, vada ancora bene. E Aspetto di fuoco 2, che è il Gesù Cristo. Grazie, bro. Bene, allora, considerando le spese dei libri... Di Lapis Lazio. Di livelli spesi... Ho speso più o meno 10 livelli. Solo 3 stack. Ok. Sei serio? Andiamo a casa mia. Ok. Ok. Questa cosa sta qua. Ok. Puoi dire che io magari ho un sacco di tasse... Questa cosa mi serve così io. Eh beh, quindi io lo devo prendere il culo... Perché tu paghi tanto... Eh no, tutti lo prendono nel culo. Ma poi io ho vendi 10 stack di ferro, Gesù Cristo Santo. Anche questo è vero anche. Questo è vero anche. Questo è vero anche. Ah, pure l'oro vuole. Ma l'oro non c'è l'oro. Non c'è l'oro. Come non c'è l'oro? Cioè, c'è lo stack, io lo vendo tipo a 5 stack. Ma sei serio? Eh, lo compra sempre qui. Che tà gli dai le palle? Ah, io posso dire... Non si fa bene deride questo server. Posso dire che noi abbiamo... C'è letteralmente... Quanti minatori abbiamo nel server? Quanti? 3. 3? 3 più quello che non è ancora più in altro coloro. Alexander. Non so se viene adesso. Minatori sono 4, non 10. A parte ho cliccato un sacco di gente in questi giorni da sera. Ma anche Jumping hai fatto soltanto? Esatto da stasera. No, scivo. Eh, oh, ogni volta devo cercare io per giocare. Adesso io che dovete ricordare di venire. Vabbè dai, mi pare devo andare qua al culo qua. Sì, qua. Oh, vieni qua, eh... Noi vuoi i soldi? Vabbè va bene. Sì. Credo che dovessi farti un po' di nederite. Ho capito, ora ci vado. Dammi la spada. Uno, due, e ciao. Poi ne ho preso uno solo. Come uno solo? Io ne ho uno. Ma stanno dietro. Questa è senza pizza in casa? Anche questa. Ma che bello, Nati, con il cappellino. Pizza, lui è il mio amante. Ho sbagliato. Lui è il mio amante. Sei confuso un attimo, eh? No. Ah, Simon, se vuoi oro, c'ho chi te lo vende. Vieni con me. Io te lo vendo. Perché Felipe ce l'ha poco, ha detto. Eh, ma lì serve tanto. Quanto costa? Eh. Devi... Da gli otto, Simon. C'è uno stacco, dai. Non ne ho quattro. C'ho anche uno stacco di zinni. L'ottone. Ma quello che è rubato del Rai. Sì, ottone, stealing, ingot. Alfabolo, vuoi dare? Quella è roba per l'ingegnere. Ditelo a... Deve andare da Wolverine. Wolverine. Lo compro, lui. Mi serve. Oro ce ne ho, no? Venite. Allora, Daniel, mi devi fare la spada e il netterino. Quanto mi costa? Ma io posso arrivare a uno stacco e mezzo. Uno stacco e mezzo. Ah, mi serve un po' Dai, quanto mi costa? Questa qua, il netterino e due stacco. Tiè, fammela sì. E ti è scattata. Eh, fammela. Mi serve a parlare di un uoco. Poi ti ho dei soldi. Tu è brutto, è uscito anche bene, quello. Dove è Samira? Devo parlare di un Samira. Ma che fai con Samira? Devo parlare con un uoco. Per fare cosa? Per dire quali sono tutti i pesci che sono bambini per... Tutti? No. Sì, tutti. No, perché a me non me li compra nessuno. Quindi mi fermo i pesci. Ma non li compra nessuno perché siamo sette gatti. Grazie a cazzo che non compra nessuno. Vieni qua. E poi lo... E poi lo... E poi lo... Non è che metto. Ma ti ho detto, sono tutti uguali. Cioè, io se devo fare un piatto col pesce, mi chiede qualsiasi tipo di pesce. Solo alcuni mi chiede uno specifico. Capito? Mh... E purtroppo... E poi... Se non le posso buttare che le pesce non è morti. Ah, è entrato pure tu. Mi sono dimenticato. Ah. Devo prendere i soldi. Ah, cercavo ad in touch. Puoi vedere se è oro perché dai, ho bisogno di oro. Mi serve tanto oro. Oh, minatore! Ah, posso diventare minatore. Ah, mi fa maleggere, mamma mia. Palle stai... Ah, c'ho un libro incantato. Ah, no. Mi ce l'ho io. Questo libro è incantato. Comunque oggi facciamo l'incontro così parliamo un attimo delle... delle leggi. Modifichiamo le leggi. Sì. Ho due stack, dai, sgancio. Sei zitto. Non puoi con niente. Non mi serve, però. Non è messa inutile. Bello, sento cose utili. Tieni. Dai, fra, vai a miniera, fanno prendersi due stack. Ah, aspetta, devi comprare questi... Loro, vuoi? Aspetta, andiamo dal tesoriere. Non so se è sopra. No, non è qui. Ah, intanto ti dico se ce l'ho io. Ciao, Ciruzzo. Allora, tu prendi 60 di stipendio, giusto? Sì. Tu paghi 15, 15, 25, 40. Tu quante attività hai? Eh... Una. Oh, anzi, quante attività hai? Poscaiolo. Ok, 15, 25, 40. Per la casa 5, devo darti io 10. Mi guadagno. Sì, è perché abbiamo aumentato i stipendi. Sì, sì, lo so, lo so. Comunque, Dani, mi sa che abbiamo l'oro, eh. Ho sconfitto uno zombie con la legna e mi ha dato questo zaino. È buono, tienitelo. Hai risparmiato la zaino. Che culo che ti ho dato. Non so, ci ho trovato dentro una mela d'oro e due selle. No. Attualmente no. Eh, il problema è che nessuno compra i suoi cavalli. Finché non esce... Io volevo comprare un cavallo, ma non me lo fa perché coglione. Che? È panso. Ma perché lo vede? Eh? No, ma l'altro giorno mi ha chiesto. Eh? No, ma l'altro giorno mi ha chiesto. Ma perché c'è questo po' qua? Ma perché devo parlare con tu, io che c'è andato qui. No, bro. Mi ha occupato il mio ferro. Ok, mi ha occupato il mio ferro. Ok, mi ha occupato il mio ferro. Ok, mi ha occupato il mio ferro. Chi c'è? Due croccantini? Sì. Tieni, guarda, due croccantini. Visto? Eh? Chi c'è? Chi c'è? La guardia di papà. Allora tu riempago bene. Ciao Scogna. Eh niente, brutta notizia per Dani. Ah no, sì, abbiamo uno store. l'acqua l'acqua è questo daniel? no, non ce la sai e che vuoi compra il minocolo di nuovo eh qua mi sa ce l'hai di vendita? eh non so se lo vende c'è il termometro si e il minocolo qua qua 10 ok c'hai i soldi? si si ho già preso la casa Devo andare da Daniel Finalmente ce l'ho più di nuovo Salve signorina Come vanno i lavori? Sono quasi completati Molto bello questo posto Veramente bello Ma Matt e Bob Breeder interior design Scrivi il tuo nome sulla lista Presto ingegnere Vedi la lista Si possono prenotare lavori di ingegneria Lista lavori Sì Ci ho già detto che voglio la licenza Per I diritti d'autore Mercante dei mondi Palazzetto Per i diritti d'autore Allora ti do un consiglio La casa di Kane Forse ti conviene Puoi anche togliere Perché non credo che verrà più nel server No È sparito Non viene più Oggi era l'ultimo giorno di avviso Che poteva ritornare Quindi per questo Potremmo darvi i soldi anticipi Eh Vabbè c'hai palazzetto Attività di Wolverine Fabbrica di Cactus Ma Come fabbrica di Cactus? Ah sì No non è Non lo so Tipo Ah voi diventate anche ingegnere Io sì 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 Ah tre licenze già Tu vuoi Minchè bravo Sì 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 Ma io sono già Vedi già al futuro Infatti No ma in realtà Felipe che mi ha pagato la licenza Finché mi facessi il lavoro Ah ok Vabbè Aspetta chi la vuole Cactus? Felipe Che Felipe vuole Cactus? Tipo per l'esperienza Ma Perché fai i cantatori Sì Ah ok Sì Oh ma hai visto Simon Il fabbro? Non l'avete visto proprio? Sto volando Sto volando L'ho fatto? Dov'è? Mi dica Sa cosa è successo al Vakabundo Mino? No è venuto L'ho visto venerdì Sì L'ho visto venerdì Io non ho manco parlato Perché Non l'ho visto Ah ok Ok Oh è strano Non l'ho visto più Cioè l'ho visto È entrato Ma è stato poco Ha detto che poi doveva andare Cioè ho parlato con gli altri Come non ho avuto Ma ne ha manco preso il suo stipendio Da poliziotto Ma perché non fa Non lo vuole più fare Il poliziotto Eh Ma deve venire al comune Come una persona normale Comunicare anche se licenze Eh vabbè ok Vabbè comunque niente Allora 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 Vado da Simon Che lo sto cercando Da mezz'ora Signor Salve Ma ha visto Simon Eh Boh Non l'ho visto Però Mi dica comunque Ho del legno Eh Ho voluto a mettere Ah a volte si baga Deve aspettare che si svuota E poi puoi usare questo qua Bagato Eh sì lo so È capitato anche a me C'ho delle cose Dentro la cassa Che non posso usare Finché non ti sbaglio Porco Ma lì come stai chiamando Troppo Non capisco Un motivo Che c'è Famiglia Signorina Aspetta Perché non c'è Letto Secondo me I bracchi di mattone Anche una armatura Perché non fatti in letto Magari Ti tocca la giornata Che non posso La tua cuccia E pazienza Vabbè Tutto materia Da costruzione Esatto Quindi Alla fine Alla fine Non mi interessa Molto No Un'unica cosa Che posso sapere Su Amino Parato Parato Ciao Alexander Ciao Anche tu in live Sì sto anche io No perché Tipo Oggi Ho scoperto Su Discord Che tu eri Sul Discord E ho detto tipo What Ma da quando è Che è sul Discord Io da sempre Sono sul Discord No Dall'Osiris Ah Qua dell'RB Eh sì Sei dal Boh Tipo 15 dicembre Cioè 15 Insider Ti ricordo Addirittura Eh Ho guardato Prima L'ho appena guardato Oh Mi scusatemi Eccomi Ciao È una stalker Questa È una stalker Mi mandi dieci monete Devi pagare le tasse della tua terra In acquistata Aspettaci Anche se non è edificato Ancora preso però Aspetti Ecco Vabbè Vedremo 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 Speriamo bene Che non sia Allora No no Sai una cosa Che consiglierei di fare Poi in futuro Visto che Se è messo tanto male Di fare tipo Delle cupole Di vetro Tipo dei tunnel Sopra Alle strade Perché lui Sotto al vetro Può stare Signora Non può stare sotto La luce diretta Eh Lo so Lo so E la signorina Con calma Con calma Si travedere Magari lo chiudiamo Nella zecca A lavorare Massimo Nelle miniere Anche a lavorare Nelle miniere Eh beh Sì Si può fare Alexander Vieni Beh certo Alexa Zitta Anche a me capita Ogni tanto Andiamo Ale Così non viene Andiamo dal minatore Che sto andando Anche io da lui Eh Sì Giusto Vieni Immagino che lo cercavi Anche io Perché ho Degli affari Da concludere Andiamo Andiamo Venghi Venghi Scusami Salute Dai ce la facciamo Entro oggi Sì sì Vieni Andiamo a comune Sono a comune Ok ok Eccolo Eccolo Ui Signor Felipe Qua c'è il suo dipendente Ci sta facendo bagnare Anche il culo Andiamo Al caldo Almeno Ma Mi scusi Signor Simon Lei è pazzo Quindi con questa tempesta Io sono in avanti Del pericolo Signor Ma Voi perché Potete guidare Perché Ho acquistato La licenza Da Simon Ho fatto il corso Che è il corso No nel senso Il corso L'avviatore L'avviatore Devi arruolarti Per fare l'avviatore Io sono arruolato Nel cuore Mi sa che dovrò parlare Di il suo comportamento Alla polizia Dopo No no Ecco poi sai Ma sapete che posso fare Allora intanto C'è il tuo dipendente Buonasera Alex Buonasera 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 Come sta? Bene Bene Come vale? Va bene Va bene Come sta andando? Vedi questo è il termometro Siamo pronti per minare Oggi Oh è accessione Allora adesso la porterò In una miniera illegale Che tanto non saprà mai nessuno Però davanti al sindaco Voglio dirlo Ah il sindaco E' un f***o Chi è il sindaco? Abbiamo un sindaco? No Infatti è morto Eh tutti voi Che stiamo cercando te Io c'ho l'oro C'ho uno stack e 23 Anche io devo venderti Poco Cristo Eh uno stack e mezzo Più stack e 23 Sono tre stack Eh intanto Te lo do un buon prezzo Io Aspetta Con i soldi Si scama un po' Il Due stack di monete Vuoi insegnare la scama Il piccone Sì sì Cosa c'è scogna? Che cazzo è la palla? Oh pose soldi Palle Tieni Eh lui E' il fratello Ha paura della pioggia No no Valeriano Ma perché cazzo Avessi tocchi di pelle? C'è una cazza aperta Simon Io rubo tutto Ecco Ciao In touch A Valeriano Scusami Hai l'oro? Si chiama No si chiama Valeriano 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 C'è dell'oro? Ora in che senso? Ora o oro? Oro da vendere Materiali grezzo Ma Io nemmeno posso vendere Vabbè ce l'hai? No Ce n'ho uno Ah ok Però se vuoi C'è delle corazze d'oro Eh no La gente serve l'oro Per altre cose Devono fabbricare Materiali Comunque si mi sa che mi stava chiamando per fargli sistemare il suo letto sul letto Capito? Eh? Mi chiamava perché voleva che io gli sistemavo il suo letto nel letto Ma dal tuo lato? Si Che non ci sono le coperte? Ah Ecco E non se ne sono le piole Che si mi ha detto di più Che non posso far niente E poi finisce le piole Ah non ce l'ha smesso in realtà Ah no Mi ha smesso Vale C'è manco una sessione Mi perdono tutte le state Nel nome di Dio Antico Corra e non scivoli mamma mia che tempesta oh proprio la nuova spada mamma mia che è fortissima sta spada però è strano che non ci sia stella c'è sempre oggi che la cercavano tutti vabbè è normale vabbè sai dovresti comprarti il casco per respirare tutta ah no tu hai i tuoi ci sono Sì, sì. 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 Sì, è vero. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 ... Sì. Sì. ... Sì. ... 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 l'ho girato. ... ... ... ... ... ... ... Abusso di potere Abusso di potere Abusso di potere Abusso di potere E' lungo e nera Aspetta, vieni un attimo Stella Stella, se uno viene vicino a te Ti dice, ho una cosa in mano lunga e nera Cosa pensi? E' questo vicino a me, hai una cosa lunga e nera Ti sei fatto conto perché Mi bevevo un po' viola No, già, posso fare una pizza? Posso fare una pizza? Dopo Dimmi, che ha fatto? Ma già è denunciato Ah, è vero, vieni Eccolo, eccolo, eccolo Eccolo qua Arresta, arresta Eccolo, prendi Oh, bastanti No, ferma, ferma Oh, 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 oh Allora Allora, io ho un sfottio di nome da fare Possiamo rimandare No, no, no Possiamo rimandare l'arresto fra 5 minuti No, no, niente di rimandare l'arresto Allora, signor Felipe No, ma da un cavale Silenzio, per favore Allora, allora Carissimo signor Felipe Questo mi sta minacciando Questo qua è un cittadino merdoso Allora, signor Felipe Allora, allora, dicami Giravoce che lei sta usando In modo illecito dei veicoli Ah, è assolutamente vero Sì, sì, io ti vedo Allora, per mia discolpa Allora, c'è il capitano Simon Che mi ha detto che Dopo aver compiuto Un... Ma tu fammi parlare Dopo aver compiuto Un corso di... Un corso aeronautico Ho ricevuto la patente Dal capitano Simon E quindi posso volare Ma non esistò Non esiste Eh, non è una stampata Io, soprattutto sotto giurisdizione Di esame Io non ho deciso un cazzo Eh, scrivatori Allora, se lei d'accordo Sono 300-300 di... Ma che 300 cosa? Allora, speri Buonanotte, Scogna Ciao, Scogna Allora Allora Qui c'è un po' di problema È vero quello che ha detto Che tu hai detto Che c'è una patente? Ma è una patente Io non la faccio Alla persone Appunto, perché non c'è una legge E non esiste niente Esatto Eh, questo mi ha detto lui Che mi ha scammato Quando mi ha venduto l'aereo illegalmente Anche l'aereo illegalmente poi Quindi lui ha già venduto l'aereo No, no Me l'ha rubato No, no Me l'ha rubato Rubato, anche rubato Ha rubato Me l'ha venduto Me l'ha venduto Hai un qualcosa che conferma la vendita? Sì, Wolverine Basta che lo chiedi Eh, non c'è ora Eh, quindi non fai sentire Ma lui Guarda Non le ha venduto Lui aveva già la... Comunque, Doge Qui mi sa che dobbiamo fare un po' di polizia Qua, Doge Capito? Polizia? Io nessuno mi ha detto che era becato C'è un pari papascio qui, Doge Ah, polizia... Gira troppa No Allora, io direi di fare una cosa intelligente La portiamo A breve, a comune questa cosa E... Ci sarà denuncia È una denuncia Sì, parliamo con un giudice Un giudice di pace Edouard Denno sarà il giudice No, no, Edouard Non può essere il giudice No, no, no Denno farà il giudice No, tu sei accusato Tu sei l'accusatore Lui è l'accusato No, anche lui è accusato È lui l'accusatore Quindi tu sei difensore Ok Trovatevi Trovatevi Facciamo una riunione Vabbè Vieni, vieni Cuglione Dobbiamo fare una roba Allora Vieni, vieni, vieni Ma che Scania è andato via comunque? No, per favore No, vieni, vieni, vieni Vieni, vieni, vieni Salve Ma poi abbiamo un'assemblea Tra un quarto d'ora Eh? Tra un quarto d'ora l'assemblea Sì, sì Va bene, va bene Se arriva Stella Gli ripagli tu le tasse Ah, sì, va bene Grazie Che che manca? Solo Stella? Oggi? Sì Sì Salve, signorina Venga, venga La pago io Perché è un po' impegnato il signorino Ah, signorina Il barone non c'è Mi ha dato l'ok Di prendere io le tasse Da parte vostra Quindi prendo la chiave Un attimo del comune Lei paga due attività Conferma, giusto Pozioni Eccetera Quindi lei mi paga 50 Solo per l'attività Più la fietta da signorina 55 Hai solo questo come attività, giusto? Sì, esatto Va bene Puoi darmi i soldini Quante? 50 55 Grazie mille, signorina È stato un piacere Fare a fare cosa Oh, è appena arrivato Va bene Sti cazzi Degli che è già pagato a noi Conferma, giocare Nadia alle 11 l'assemblea Ben ben andiamo parliamo dobbiamo trovare le prove giuste Può essere il mio avvocato lui No vieni 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 ben Bene senti un attimo Come possiamo incastrare Come possiamo incastrare Entrambi Oddio entrambi è un po' difficile Dobbiamo incastrare Almeno uno direi Perché il signor Samo mi ha detto Che lui fa delle patenti Ma gliele fa solo ai polizonti Quindi il signor Felipe ha detto una paura Sì appunto Già questo è un problema Oh via Vieni la mia stanza Questi Vieni qua Sentimi un attimo Allora sentimi un attimo E qui c'è un problema Non c'è nessuna legge di questa patente Non esiste la patente dell'aereo Solo gli avatori possono guidare Quindi praticamente Già io Praticamente il signor Samo Questa cosa Sera inventata Praticamente Samo Sì Quello che sarà più punito Quindi ha detto una paura Sì Io Arrestare tutti e due Allora No no Aspetta Arrestare no Aspetta Prima portiamo tutto Al giudice Davanti al giudice E io farò L'accusatore No? Devo fare Noi l'accusatore Del governo Fa l'accusa Sì dai Comunque abbiamo delle prove Perché noi ne abbiamo visto Noi con i nostri occhi Che qui gira Una persona Con l'aereo Senza licenza Ma senza Non esiste manco la licenza Questa è Letteramente Punibile Proprio Tutti e due È stato un vostro errore Guardate una legge No Non esistono leggi Sul guidare gli aerei Gli aerei li possono guidare Solo Chi è Parte degli aviatori Beh Allora Di investigare un po' Di più Sono pensata perché? Vado vado a investigare Io L'ho detto La legge dello Stato Cosa pare Beh A missione si Interrà questa Giustizia Dopo la riunione Verso 11 e 15 Giustizia Giustizia Altro che in guerra Che cosa Che cosa Che cosa Pena da penta Che hanno le disegne La scomparsa O si Ok Ha due caschi Se vuoi Vuoi in prezzo A speciale C'è un problema Allora Felipe Ma sta pagando il giudice Nella kill E poi Den Mi ha colpito Con una spada Sta corrompendo il giudice Den mi ha attaccato Con una spada Un'aggressione a mano armata Oh che succede Che è che la mia ender C'è sti ragazzi Non lo so È lì La tua ender Sì Siamo in doge E stiamo conferendo Per l'antico dio Un attimo Vabbè Ma avete la voce o no Non ho capito Quindi Ma poi Non riesco a trovare Il mio tuo calco L'ho perso Ma per caso Dov'è Cambierai il giudice Cambierai il giudice Sì E chi mette Nati Nati Cosa Nati dovrei fare il giudice Perché io Perché sei quella Che non si fa corrompere Qua c'è corruzione Dov'è Alexander Si presta Dov'è Cazzo Dov'è Alexander Io che cazzo Ne so Parlo con Ben Aspetta parlo con Ben Ma devo venire ora A fare il giudice No no Tra dieci minuti c'è la riunione E poi dopo la riunione c'è No 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 Non ne so Ben Abbiamo beccato Il signor Felipe Insieme a Simon Che stava Corrompendo il giudice Quindi lo cambiamo Alle 23.15 Abbiamo anche testimoni Abbiamo testimoni che hanno parlato Quindi si sono messi anche D'accordo Sì sì ma infatti Il giudice verrà cambiato E anche Dan verrà punito per corruzione Ah è stato anche corrompendo Cioè ha detto anche di sì Sì Ma lei ha fatto delle prove Sì Simon ha sentito E c'erano altre due persone là vicino Lei faremo parlare È Simon che me l'ha detto E sono andato Ah beh vabbè io non è che mi vedi aiutato Eh ma sono andato da vicino E veramente c'erano insieme nella chiesa E mi hanno detto No no stiamo pregando Quando mai pregono questi? No ma infatti io Quando stavo nella mia casetta lì Io stavo sentendo delle voci E stavo corrompendo qualcuno Ho detto Vabbè non credo che sarà mai possibile Lui è un uomo serio Ma qui mi sa mi sa Che stiamo felici Eh sì sì Allora visto che ci hai raccontato questa cosa Al giudice nuovo Sarà vera questa cosa Divinzeremo la tua pena in casa Però guarda Ha raccontato anche del falserie riguardo Sta patente che manco esiste Neanche ci stanno a legge A riguardo Appunto Mi sa che Felipe verrà bello punito Pensando Era il momento di punirla È la sua parola contro la sua Comunque Il signor Simon mi sta dicendo Che lui In pratica Dà delle patenti Anche Solo ai polizioni Guarda Ma Eh ma sai Ma qui Non c'è nessuna legge Che prevede Non c'è nessuna legge Ma appunto E quindi lei Le ha detto Eh aspetta Tu stai stessi Andato Il dodo L'ha chiamato E io Sto scritto Io facevo la Io Volevo fare Che Volevo fare Anche Fate Allora Davola Allora Aspetta Ti siamo andati ormai O ti cazzate Sì Aspetta Un attimo Un attimo Allora Puoi spiegare Siamo da bugia Non faccio la patente Ai poliziotti Ok Però il poliziotto In caso io Non so Sono morto Ah beh Può fare Richiesta Ok Ho capito Tu non hai caso Deve imparare a usare A meno Come cazzo si usa Perché è un civile Quindi perché muore il pilota Nell'aereo Il civile deve guidare Allora Io ti darei Un'altra pena Qui Dai Ah vedi Ma chi è il tuo avvocato Io penso che ti devi trovare Un bell'avvocato È lei È uno È uno scomparso Alexander Non lo trovo È stella Andiamo bene No io penso Stella Ma come ti Allora Questa è presa L'affare Oh Minaccia all'ordine pubblico Minaccia all'ordine Allora Io mi sa che Tra poco Qui metti tutto in galera Tutto Direttamente E butto le chiavi Vabbè Qua mi sa che Ci saranno un sacco di multe Secondo me Vabbè Il comune C'è un ruolo C'è un ruolo C'è quel ruolo Signorina lei alle 23.15 Si presenti al comune Per presentare il suo uomo Va bene A ore 23.15 Deve venire al comune Per presentare il suo uomo C'è Il suo Il suo bambino Che è lì Ha provato a corrompere Il vecchio giudice Per vincere la causa Ok È certo L'abbiamo visto L'ha sentito anche Ben Ben era nelle vicinanze Dalla casa Ha sentito che parlavano Infatti Sono molto intelligenti Diciamo Cioè Ci sono messi a parlare Dovante la casa mia Sì ma ora Bassa ragazzi Ora c'è la sezione Se ne parla Solo Solo sotto accusa Potete parlare Solo sotto Bello quel quadro È andato in Preskizia Oh Ciao Allora su Mi chiamiamo L'aria però Eh si Mi chiamiamo L'aria Sto Voglia di L'aria Hai visto Comunque Qui Di che cosa Di malena Oggi Dove Eh da solo Di ristabilire Le nuove leggi Di cambiarle Scritte bene Mi sono appena Totto i calzini Da uno che vuole Partecipare Si chiama Fiore Ma è un bravo Buongiorno Daniel L'abbiamo già fatto Io me ne raccordo Qui partono le denunce Ma Tina Sicuramente Mi senta Com'è Scogna È andato via Più presto Ma scusami Ma Ma che non facevo Tipo una legge Dove Tipo I prodotti Che vengono fatti Dalla fabbrica Dalle fabbriche Ah Il coach Ah ok Ma ora Vedi Luke Diventa ingegnere Anche lui Si prende Vuole prendersi La licenza E che penso Il coach Lo voleva Su Scogna Eh Scogna Ha un team Di League of Legends È di League of Legends Guarda che Scogna È forte là Allora Signor Ben Dopo un po' Di mare Allora Non te che ne pensi Per la tua felicità Ti posso dire Che è uscito Un bel video Di 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 Pit Porta La tua idea Uno Stinger Flyward Questo mi hanno detto Di vederlo assolutamente Sto video Il problema Che dura Troppo Quindi ci possiamo Vedere a step Magari Ci vediamo O ci vediamo Tutto l'episodio O ci vediamo 25 minuti Oggi 25 minuti Domani Sì Sono andato Sono andato in un posto Molto 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 Bello Siamo agli inizi Del 2000 È un video Da vedere Mi hanno detto È un video Da vedere Da vedere Guarda Domani mi devo svegliare Alle 10 Mi devo Fare L'avvocato Chi è l'avvocato Perché c'è l'avvocato In questa sala Siamo avvocato Guarda Che alle 23.15 Alle 23.15 C'è la riunione C'è la sentenza Ma lo sai perché ho preso Stelle Perché Perché Felipe È stato visto Molto Molto Ma noi siamo Sceglie persone Che non hanno mai Vato l'avvocato Ma Un incompetente Carlo ma sei uscito Tu dava Minecraft E poi sei rientrato Sì perché Hai detto a Peter Siamo usciti Ah Che caro Ah Comunque Ma io mi sono preso Stella Perché lui L'ho visto molto spesso Felipe Ha uscito Stella Perché 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 c'è la fessa Dai Dai Basta No L'avevo preso Alexander L'avevo preso Alexander Alexander Perché Alexander Ha proprio salito Sull'aereo Di Quando Sai Lei Lavora anche Per il signor Panzer Il Panzer Dove il barone Era in combusta Con Il Con Felipe Sì ma infatti Il barone mi preoccupa giù Parlando seriamente Dobbiamo stare attenti Al barone E al vescovo Perché secondo me Stanno facendo corruzione In la città Stanno corrompendo persone Per fare chissà cosa Il barone è una persona Che c'è ogni tanto Ma tutte le volte che c'è Combina guai Ultimamente sì Ultimamente sì Che bisogna fare un po' Un po' di pulizia Ah domani dovete buildare Osiris Moderatori ve lo dico Infatti ora lo scrivo Nella cosa Osiris Quale Osiris? Un Osiris E' un nuovo evento Per il 19 Puntualissima Sono arrivata Ho il pesce per lei Signor Doge Hai soldi per me? Guarda Doge vado Ci metti a 9 Dai Niente Il Doge non mi sto ascoltando No Nati ho spesso Facendo una cosa Doge è un uomo molto impegnato Allora ma quel gatto lo conosco E' il mio gatto Allora scusa ma che dicevi Signorina Ero un attimo impegnato A controllare dei falli importanti Aspetta un attimo Salve ragazzi Buongiorno Ci siete tutti? Arrivederci Ma perché c'è Luke qui dentro? Ho lanciato persone Potete sedervi come persone normali Gentilmente Grazie mille Il cavallo è più educato di Den Dai la spada Cavolo dai Ho lanciato per sbagliare la spada Ah questa è qua E' sequestrada Non ti permette Quella è Una reliquia templare Dai la cazzo di spada Dai la spada Dai così mi ne vado Ma dai la spada Ok possiamo iniziare? Si Perché sono tutti cornuti? E che so De chi gliela le loro mogli E chi è il bastardo Che ha detto sta roba? E il live L'hanno detto Ha finito Quoi ci sono armature templari Non vi aggiornate mai più Sennò vi Raidolatemi Va bene Ora sentiamo Le cose serie Dove Che stiamo dicendo? Oggi abbiamo l'assemblea Semplicemente per la modifica Delle leggi Quindi ci mettiamo Cinque minuti E vi ricordo Alle 23 e 15 Sarà la sentenza Al comune Ma dove? Al comune Perché non abbiamo il tribunale Ci sarà Allora C'è una legge Che secondo me È proprio anche Da togliere Ci sarà un'apertura Un'ora di tempo Del mercatino Si possono prendere In affitto I vari gazzembo Nessuno qui lo fa Io direi totalmente Di eliminarla Questa legge Che legge è il numero? Io direi Di inserirla E fare meglio Questo mercatino Di merda Anche No Per il momento Sospesa Io direi Sospendere De sedicesima Quindi io direi Sospesa Come ha detto Signor Gianna Felipe La mettiamo Sospesa Questa legge Ciao Gilberto 17 Allora Se una persona Vuole prendere Un solo edificio O avere due attività In un solo edificio Paga comunque Due attività attive Questa legge Non si capisce Un cazzo Scritta così Io La riscriverei In questo modo In modo più adeguato E consona A questo Nostro paese Come legge Scritta bene Un Un imprenditore Un imprenditore No Un imprenditore O negoziante Se Ha La possibilità Di avere Due Attività Attive In un Solo Edificio Ma Nonostante Ciò Paga Comunque Come Se fossero Due Attività No Due Edifici Va bene così? Distinti Scrivi distinti Ah Diffici Distinti Hai ragione Grazie Distinti Ok Perfetto Va bene Confermate La legge Rimane uguale Sì Sì Ok Sì Sono leggi Già esistenti Stiamo semplicemente Rivalurrimodellando Le leggi Mare Nostrum Per spostarsi Tra i villaggi Bisogna andare al porto Per richiedere Passaggio sicuro Per evitare Essere catturato O razziato In caso Di esporto Merci Di valore Bisogna Che vengono messi Nella cassa E trasportate Su una nave Scartare 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 Vabbè Io Allora Io direi di proprio Cambiarla Perché attualmente Non ha senso Io Quello che dovrebbe essere fatta In questa In questo mare Nostrum Sarebbe questa differenza Che ora ve lo scrivo Io direi di riscriverla In questo modo Per Allora Aspetta Per viaggiare Tra un porto E l'altro Del nostro paese O Viaggi Viaggi esteri Come Come posso scrivere Viaggi esteri Tipo esplorazioni Andare da altre zone Quindi O viaggi esteri Praticamente Sì Viaggi Esplorativi No Perché Sennò Non sembra Perché Intendi anche Andare a black water Ad esempio No Lì ho scritto Per viaggiare Tra un porto E l'altro Del nostro paese O viaggi esteri Va bene Va bene O viaggi Scrivi esterni O viaggi esterni Ok O viaggi esterni Si Si deve richiedere Si deve richiedere Il passaggio Al molo E può Accompagnarvi In questi Questi spostamenti Soltanto Le persone Consone Per il seguente Volo Ovvero Marinai Giusto? Ok Per viaggiare O trasportare In questo caso Ok Così è più Semplice Non ci sono più pagamenti Togliamo i pagamenti Noi già paghiamo I marinai Per questo lavoro Quindi non c'è nulla Da Ok Vabbè Ormai Abbiamo scritto così Penso che si capisce Alla fine Cioè Non è molto difficile Allora Adesso Passiamo All'altra Tassazione Cittadina Se una persona Vive in una proprietà Di un altro cittadino Pagherà di conseguenza Una piccola tassa Di 5 monete di rame Penso che questa Lo stiamo lasciando così E' abbastanza chiara No? Si va bene Ok Ok La ventesima Se due persone Vogliono aprire Due attività In un solo edificio Per farlo si compra Il contratto Che costa 20 monete Io questa È totalmente da cambiare Perché è sbagliata Tutto Perché abbiamo cambiato Ma ci siamo dimenticati Di modificarla Qui semplicemente Se due imprenditori O negozianti Vogliono aprire Un'attività In comune Bisogna Semplicemente Intestare L'attività A nome Di Entrambi Semplicemente Ok? Si va bene Però in questa casa Entrambi pagano Le tasse Divise Cioè 25 sempre La tassa è uguale Quindi questa 25 25 O 25 No 25 Se lo spartisco Tra di loro Quello vabbè Se lo spartisco Poi c'è Sovvenzione di mezzogiorno Questa è l'ultima Che rivediamo Poi ci fermiamo Che abbiamo Allora C'è la sovvenzione Abbiamo tanti soldi E ci vogliamo sviluppare Sì E infatti Questo volevo dire Perché comunque Adesso tre cittadini Semana sono sempre tre Quindi sovvenzione di mezzogiorno Chi si trasferirà A Blackwater Come nuovo cittadino Avrà due stack Di monete di Dham Per usare Investimenti Nel territorio Io direi a sto punto Come dice il signor Viste che non ci sono Stati grandi Interessi Dai altri Direi di aumentare A tre Ma no Anche a quattro Secondo me anche a quattro No no a tre I soldi del comune Non vanno via così Perché già due persone Hanno avuto i soldi E sono spariti E non sono venuti più E abbiamo perso Quattro stack di monete Non sono stati usati Praticamente Boh Niente Questo è Possiamo finire La seduta è finita Ci vediamo Tra sei minuti Per appunto Le denunce Comunque Valeriano Sarà il mio avvocato Tu è? Eh? Tu è chi sa Di dove c'è Non è pieno Salve Mi sa che lei Non sa In che quale si è Quanto c'entra L'avvocato non è di qua Ma quando è che devo fare il giudice? C'entra l'avvocato Ma quando è che devo fare il giudice? Mi sa che per Parare le spalle Signor Felipe Mi sa che ce ne vuole Ma non parare le spalle Innocente Non è non certo Mi dispiace Ma Chi è la Quale è il giudice? Quindi non ho capito Il giudice E sta mica i dodici Non è bello? No Ok Ma diciamo E' stato rimosso Perché anche lui E' accusato adesso Di cosa? Di cosa? Di corruzione Non diciamo nomi Noi parleremo Quando ci sarà la seconda In quanto Andremo In quanto potete andare Che come sistemiamo la zona Dai Ci vediamo dopo Hanno cambiato il Grinch Comunque si Hanno messo il gatto No gli piace il Grinch Che ti devo dire O te coglione Sarò te coglione O presto là Ora Stiamo preparando la stanza Stiamo preparando Ok Allora Mettiamo i posti Sedere Oh Stiamo preparando la sala Sto preparando la zona Ok Ho sbagliato forse Mezzo al comune Eh sì ovvio Abbiamo una stanza Un po' più bella No In chiesa No Non si fanno queste cose davanti a Dio Ok Io Potrò anche capirci Dai tu ti metti qua Ascolti Mi spiace Non c'è il tavolino Vabbè dai Ci vogliono i posti anche per i testimoni Aspettate Dai Nati Ti puoi sedere qua Ok A posto Ti piace? Guarda se siete mattinati Ok niente Abbiamo mattificato le leggi E niente Abbiamo fatto questa parte E cose che manca Ma andiamo a mettere un'altra leggi Ma ancora so questo Nati Hai un po' fame Vai Mettila a pentola con l'acqua Il tempo che buona Però domani mandiamo presto Perché Poi è il turno di mattina Sì lo so Nati Non è che domani mangiamo le 4 come oggi Oggi è capitato Sere Eh Eh Ero Gilberto Test server Oggi Domani devo fare test server Buildare Osiris Vabbè Buildare Osiris ci pensano gli altri Io faccio test server E cerco di risolvere quel problema del menu Mamma mia Quante cose dobbiamo fare Pterodactyl Attualmente abbiamo 4 server ragazzi In questo momento 2 sono attivi Sto computer gli piace lavorare Sì Domani esce il nuovo server E tra uno o due mesi esce l'altro server Secondo me stella tu Si vede che non mi segui su Twitch Abbiamo già Anzi si vede che non leggi su Discord Su Salone General abbiamo postato le prime immagini del server nuova Tu mo vieni qua e mi devi dare la paga Scusa Anche prima quell'altro mi ha dato la paga Tiene Salve signor Doge Sì Riccardo Salve non si preoccupi Abbiamo già fatto tutto Infatti non prendo la paga Bravo anche il cittadino onesto E ora c'è una bella cosa Doge è l'ora Allora Scusami un attimo ma la paga non è 30 La paga non è 30 30 Dato 60 È aumentata la paga Sì Era 40 comunque Ora è 60 Allora tu hai visto signor Scusami che volava con quel veicolo volante Eh no Non c'ero Eh vabbè Lei l'ha mai visto Non l'ha mai visto con un veicolo volante Non mi sembra di averlo mai visto Lui Ah vabbè Lui sta cambiando la paga C'ha ragione Ma è tipo Deve essere processato Sì processato tre persone addirittura Ok Oh E già siamo per i commenti qua Eh ci sarebbe pure il mio fratello Però c'è un certo Giudi c'è Siedi sulla sedia rossa Giudi c'è Oh Sì Sì Nati Ti devi sedere Bellissima Sul tribunale Comprimato Eh sta Ti piace Il momentane Ma poi quella è volante Eh ragazzi No No ma io Io ho fatto qualche mese fa Ma facciamo il tribunale No ma che serve il tribunale Ma sei strunso Quella è la sedia Nati ti siedi Nati ti siedi Nati ti siedi Nati ti siedi E tu mi devo sedere Sulla sedia rossa Nati Ma di chi sono sti bistecchi Ma non c'è spazio qua Ma non potevi farlo da un'altra parte No ma ormai siamo qui Non mettiamo da Sì no no Eh ci vedi male Ma mettila un piano più sopra Ma togli il tappeto Togli il tappeto E mettila qui Scusate il tappeto Scusate il tappeto Niente Siamo andati in mezzo E la scavano sul lema La scavano Imputati dove si mettono Non lo so È tutto fatto State là sopra Nati Ma non vedo Comunità di questo è il tribunale Iniziamo 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 Allora Chi sono l'avvocato Allora Felipe di qua L'avvocato di Felipe Si siede vicino a Felipe L'avvocato di Simon Si siede là vicino Chi è l'avvocato di Simon? Ok Allora Dov'è Dan? È Dan Ma chi è l'avvocato di Simon? Stella Stella Allora Dan sei anche tu Accusato di qualcosa Lo stesso avvocato è il mio Per cosa? Perché ho chiesto Ma spesso Devi discuteremo il cazzo del tribunale Stai zitto Ok Allora Si alzi Si alzi Siete a fianco Dan Se vuoi ti difendo io Dan No no Seduti Questa è una corte marziale Chi parla Verrà Ordine Ordine Oh barone Ben Dai Ok Si alzi Gilberto Quello è ancora Per gli accusati Per gli accusati Gilberto Allora 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 Partiamo Partiamo Ok ci siete tutti? Siete qui? Pronti? Ok Non lavorate domani troppo No io Allora Su se vedo si sia domani non lavoro Ma abbiamo un po' di tempo Stai zitto Su gruppo di Whatsapp Infatti dopo tutti i moderatori Andate a leggere Domani alle 15 dovete lavorare A server di Osiris Sicuro che c'è l'ora? Si Ce la fai con la fan Ah Pronti? Si Ah tu I builder Ragazzi tocca a voi ora Ah me lo tocca Easy Oh finalmente Mi hai pensato La casa Che c'è trovato a casa? Ma che stai dicendo Stella? Stai scherzando Per i builder Allora Iniziamo Allora ragazzi Intanto partiamo con Simon Perché Prima vogliamo risolvere questo grande problema Simon si siede all'accusato Siede all'accusato Facciamo delle domande Allora Gli avvocati possono fare domande Intanto vi introduco l'accusa Perché ovviamente dovete sapere l'accusa La prima accusa è contro il signor Simon L'accusa è Vendita Farsi documenti Spargendoli per documenti Per No no i documenti no 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 Come no? No 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 Di certificazioni Sulla Sulla guida di areoplani Ma non ci sono leggi riguardanti a questa cosa E né tantomeno tu da capitano Hai questa Permesso di fare questa cosa Soltanto Io stesso ho beccato pizza Io ho tovolto Volare sopra il mio molo E chi guidava? Non lo so Non si capiva Era qui Non volavo io Va bene Comunque Questa è l'accusa I due avvocati possono fare domande Da dove iniziamo? Penso per forza Per forza da Sempre l'accusa a parte Sempre l'accusa a parte Vai accusa Ok Signor Simon Dica Gli attriti Tra lei E il signor Felipe Sono noti Da molto tempo Soprattutto per le religioni diverse Ora Obiezione Obiezione Non ce l'ho Non puoi essere Ma aspetta è giudice No 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 sto Nati tu devi accettare Oppure dire di no All'obiezione Così funziona Devi dire di sì O di no All'obiezione Quando uno fa l'obiezione Ok vai Gli attriti sono noti da tempo E quello che noi Come accusa Vogliamo dimostrare È che È stato un piano Di Simon Per incastrare Il signor Felipe E indebolire Non soltanto La sua posizione personale Ma anche la stabilità Di Osiris Signora Tocca a lei Signora giudice Io non vedo Cosa Posso centrare La religione Con questa cosa Sono basi Non fondate Senza prove E quindi Signora giudice Non alcune prove Uno E due Con quale motivazione Avrebbe fatto questa cosa Signorioso È un fatto culturale È un fatto culturale È qui Giudice decide Giudice decide Scusi Non ci sono prove Per queste accuse Posso ribattere Signor giudice Che non ci sono prove Ma non è È già noto Che le due religioni diverse Soprattutto i due Tra i principali esponenti Le due religioni Hanno da sempre Delle discordie Che non c'è bisogno Di provare Queste discordie È palese È evidente Lo sappiamo tutti Che proprio per la religione diversa Non si sono mai Non c'è stata mai Non è mai scolto buon sangue Che poi Non vedo nessuna coerenza Con il caso È la motivazione dietro È quello che noi La nostra tesi È che la motivazione dietro A tutto questo Signor Simon Non ha nessuna prova Su queste basi Stai accolto Stai facendo Stai facendo Solo delle supposizioni Senza fondamento No Sto difendendo il mio cliente E accusando E io Anche io sto difendendo Il mio cliente Sto semplicemente Dicendo che lei Non ha Né prove E sono solo parole al vento Perché Su una cosa Di una religione Un ok Capisco Quello che intende Però non ha né prove Né Né accuse fondate Scusi un attimo Aspetta 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 No aspetta Giudice solo Comunque Non avete capito un cazzo Però si deve sedere Dai Perché non puoi In 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 Così Ok Aspetta Una cosa Abbiamo Abbiamo Ah no no Aspetta Raga Fermi un attimo Abbiamo fatto Un grande errore Ma Daniele Non dovrebbe stare lì Non dovrebbe andare La persona Che Che Testimone E lui deve stare lì No ci devono essere Due sedi Se tu che non hai fatto Sbagliare Eh vabbè Aspetta Aspetta Risolviamo subito Risolviamo subito Aspettate Va bene Io sono anche cortesi Mi tolgo il cartello Allora Qua c'è il testimone A fianco Prima L'ha utilizzato Poi il testimone Ok Ok vai Vai Allora Aspetta E io chiedo Che entri Testimone Panzer Per dire Qualcosa Su Nostra Cus Dovrebbe fare L'avvocato Esatto Eh però L'avvocato Non lo sa Perché Non lo sa Come se Avessi detto Lui Nell'orecchio Va bene Vai Oh Sì sì Panzer 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 Non c'è Vabbè Dai Dai Non c'è Con friezza Non c'è Non c'è Non c'è Sì ma Devi accogliere O rifiutare L'avviazione Cazzo Non pensare Non dovete parlare Gli altri È accolto Rifiutare Perché in effetti Non ha senso Ok Noi parlando Di un reato Di volo Di 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 Sì Sì Non hai capito Il discorso Il fatto è che L'edicenza c'era Solo che era Falsificata Dal signor Simon E il motivo Per cui la falsificata È proprio quello Della religione Per metterne i guai Il vescovo Sì come capo dell'arena Ma quale legge c'è? Ma non c'è nessuna legge Io giusto Posso Appunto Non c'è nessuna legge Per questo No Non esiste A me è stato detto Desiste Esatto È Simon Che è un truffatore Truffatore No Vole ti devi votare La licenza dove sta? Ma la licenza non c'è Perché è falsa Gli ha detto Beh Allora se Non c'è Non può essere Né vera Né falsa Non è stata mai La licenza c'era Ma è stata sparita Ah è sparita Chi l'ha fatto sparita Ah è sparita Eh probabilmente Chi l'ha fatto La donna La donna La donna Perché La donna Sarà Il problema Il giudice Non sta al caso Allora Signor giudice Signor giudice Essendo che io so più fatti Penso che sia meglio Che il giudice Lo faccia qualcuno Che sa tutto Sei mutato Non ti senti Signor giudice Forse è meglio Mettere un giudice Che ha tutto a portata di mano I documenti E tutto Che sa tutto Della vicenda Perché non me ne avete Mi scusi E avete ragione Perché è stato tutto Tutto fatto velocemente Quindi se vuole La sostituisco io Come giudice Sono imparziale Neutrale in questa cosa Anche se sono di fede Antico Dio È stato uno Che mi ha accusato Questa Io ho accusato Sì Sento che mi hai chiamato Le guardie contro Eh beh Perché ti ho visto Allora No ti continua Lascia stare il giuramento Di dire solo la verità Lascia stare il giuramento Lascia stare il giuramento Che qua sento solo bugia Comunque Panzer può parlare adesso Sì ma deve Nati porca puttana Sai fare il giudice Devi dire Obiezione accolto rifiutata Da dieci minuti Ok basta Allora cambia Tattica Dintac Vai Veloce Mamma mia Che ci voleva Chiamano il testimone Ah il testimone Abbiamo Il signor Panzer Come testimone Asrubale Sì Asrubale E saprà dirci di più Il barone In persona Ovviamente Direi È più È più imparziale È sordo In pratica Si sieda sulla sedia Del testimone A fianco al signor Simon Ripeti un minimo Quello che abbiamo detto Vai Ok Allora Signor Asrubale Lei ha visto Il signor Felipe Sul Pos volante Com'è che si chiama? Vole Lo stesso Volare Non è questa La domanda Di Dintac Ma allora Dobbiamo Siamo È successa Questa cosa È assicurata Non era il testimone Per questa La questione Dello spazio Della licenza E delle Mignacce Stranzate così Ok Ok Lei ha visto Signor Asrubale La licenza In questione Di cui stiamo discutendo Asrubale Si è pare della facoltà di non rispondere Allora Siamo tantissimi Che noi Ah ah Sono solo Mi Eh Si Posso spiegare Allora La risposta È Mi C'è un periodo Di tutti Ascoltimo Grazie Ma è un problema tecnico Il problema è un altro C'è anche lo Stato che accusa Sia Simon che Felipe No, non hai capito Allora parlo un attimo io perché ho capito Siete un po' delle scimmie Allora vi dico subito E' colpa tua che non dai dei documenti Posso parlare io Se mi fate parlare Allora intanto Entrambi gli accusatori oltre ad accusarsi da solo Anche lo Stato accusa entrambi E io ora vorrei partire io Così facciamo prima perché state un po' dormendo Facciamo prima la parte dello Stato Voi progettatevi le cose intanto Allora signor Simon E' vero che lei è già stato arrestato varie volte Ed è stato accusato varie volte Per azioni illeciti Per azioni aggressive contro altre persone Ah sì Ok Oltre questa Quante volte ha usato la violenza contro altre persone Ed è finito in galera per questo motivo Ah sì Non ho capito Può ripetere Sei stato accusato varie volte E arrestato per violenza contro altre persone Hai più di 5 multe registrate e pagate Ok ci siamo no? Quindi è possibile che questa cosa che signor Felipe Il fatto che lei Ha mentito Sull'ha fatto della licenza Per truffare una persona No Ok Quindi tu dici no Dove sono le prove che questa cosa non è vera? Ci possiamo fidare? Lei vede Signor Felipe ha qualche licenza Che gli ho dato questo Qualche licenza Qualche prova Ma non la Chiedo il permesso di parlare Vai Allora Hanno visto Ok ci sono testimoni che hanno visto volare Il signor Felipe con il signor Simon Sì Questo è chiaramente Il fatto Che il signor Felipe Che il signor Simon Stava insegnando il signor Felipe A volare O comunque Non è assolutamente vero Devi farlo a fin di vista Ok questa è un'opzione Quindi nel caso Guidasse il signor Simon Nel caso invece Stesse guidando il signor Felipe E Simon fosse Come passeggero È ancora più grave Perché gli era a conoscenza Del signor Felipe E lo incoraggiava quindi a guidare Con lui a fianco In qualsiasi siano opzioni Ok le possibilità È chiaro Che il signor Simon Ha degli illeciti Nella questione Ok In realtà Il signor Felipe viene accusato Quando in realtà è la vittima Di tutto questo Cosa ha da dire avvocato Starpix Al riguardo No nulla da dire È indifendibile il suo cliente Io credo che Alzo la mano La Giulia non può parlare Silenzio Cittadino Zitto No non potete Allora Aspetta Oh silenzio Silenzio Non mi piace questa cosa Io vorrei chiamare dei testimoni Ben Testimonia Si sieda Contro appunto Il signor Simon Per completare Perché si è capita un po' la situazione Ben È vero che il signor Simon Spesso e volentieri È stato È stato arrestato E tra Sei stato tu Varie volte Ad arrestarlo Si Ok Quante volte Il signor Simon Ha usato violenza Anche contro te Il capo di stato Della polizia Qualche volta Per me è stato Giustamente punito Giustamente punito Ok Allora le faccio Una domanda più importante Crede che sia vero Questo fatto Che il signor Simon Ha voluto Incastrare Felipe Per Indebolire la fede Antico Dio È Farlo per il bene Per il bene della sua fede Secondo lei Secondo me no Secondo me è una tantissima Bagianata E il signor Avvocato Qui si dovrebbe vergognare Dove stavate Gazzetto Ok Un'altra domanda Stiamo cercando di scoprire La verità Una domanda Allora le regole Allora il mondo funziona così Non è che uno diventa Per forza contro la legge Cioè lui va sempre contro la legge Giustamente Cioè lui è fatto così E giustamente viene sempre punito Però non è che c'entra La religione In questo caso E ha tirato fuori Un argomento Detutto senza senso Diciamo Non può parlare Deve aspettare Non è senza senso Senza senso Un senso logico ce l'ha Poi deve essere interpretato Allora posso aggiungere Delle parole In questo caso Sono io da testimone In questo caso Faccio io da testimone E dico questa cosa Che secondo me è importante Ed è una cosa Molto importante da dire Il signor Simon Sì un attimo Questa è una cosa Da aggiungere Che si allega Proprio a quello che hai detto Il signor Simon Spesso e volentieri Nella guerra Grazie al suo popolo Che abbiamo vinto Delle battaglie Perché la sua fede Dovrebbe volere Del male a noi Se entrambe le fedi Attualmente si accettano Per quello che siano Ma poi Posso dire una cosa Posso dire una cosa Che obiezione accolta Che signor Cioè Gli addoni Questa cosa Secondo me Devi parlare Vai Vai Signor Bell Dica No Stai Cuccia Bene Sì Volevo Arrivare qui Comunque Il signor Simon Ci ha sempre Dato una mano In guerra Non si è mai dimostrato Un Come si dice Infame Tra virgolette Quindi Quindi per la questione Della regione Che è esclusa Secondo me Il fatto che il signor Simon Stava con il signor Felipe Quel giorno Si può insolare Nei cieli di Osiris Beh anche il signor Felipe Era a conoscenza Di quello che stava facendo Assolutamente No? Mi scusi Ma pensavo Non è questo l'argomento Non è questo l'argomento Sì ma lei Mi dice che il signor Simon Ha portato il signor Felipe Con lui Giustamente Quindi mi dava il signor Di 8 Non Chiedo di poter abitare Ok Quindi non ha fatto Nessuna Nessuna Ok Obiazione accorta Allora Il signor Felipe Pensava di esserne giusto In quanto era convinto Che il signor Simon Avesse la possibilità Di farlo guidare O comunque di insegnarle A guidare Ok Anche se non faceva parte Dei ruoli richiesti E questo io non lo so Ma non c'entra Quella situazione In generale No Ok Va bene Allora Non sono accusato E infatti Quindi non ha nessuna accusa Il signor Felipe A questo punto Le accuse ricadono No L'accusa sta che Noi A noi Il signor Doge Io L'abbiamo visto Volare nei cieli di osi Con il signor Scuglio Mi scusi Però No E' roba assaggiera Il passeggero è legale Il passeggero è legale Non c'entra niente Che ne sa lui Scusami Non c'entra niente Fin quando guidare yacht Lui può E vorrei riprendere Il fatto della religione Io non sto Dicendo che Il signor Simon vuole il male Di Osiris Sono certo però Che invece Cerca di Di indebolire L'altra fede La fede dell'antico dio Che lo sta Che in qualche modo Da un ostacolo Alla Alla fede degli arabi Ma noi Della fede Non ce ne prega nulla Ma questa è la motivazione Dietro l'antico Questa è la motivazione Dietro l'antico Io sto cercando Le motivazioni Movente Ok Per questo È successo Questa litigia E abbiamo individuato Come Con il mio cliente Questa Come motivazione principale Ok È una supposizione Sì ma mi scusi Signor Giudice No Fè Il testimone Deve testimoniare Non deve discutere Sì infatti Il testimone Signor Giudice Io vorrei dire anche Che Non puoi accogliervi Ma che parli È infatti Giambizza Guidare Quindi Donno Sarà una tutta puttana Io non capisco Che niente Allora mi ascolti un attimo Aspetti Aspetti Nadia obiezione Accolta si dice Quando ha detto obiezione Non mi sembra Giusta questa cosa Perché non c'entra con il caso Che cazzo Che diceva O accolta Ah ok Vai continuo Il testimone Deve testimoniare Non deve discutere Sì ma a parte il testimonio Si può alzarti Secondo me Ho finito con il testimone No è che qua Non ci sono regole Va tutta puttana Non sapete farlo No non si deve Giornare la corte Aspetta Ancora non abbiamo finito Ma io vorrei chiamare Un altro testimone L'ultimo testimone Da parte dello Stato Vorrei chiamare Come Signor Barone A parlare Contro Simon Per testimoniare Mi sentite Sì sì No non ci sentiamo Allora Signor Barone Conferma Che signor Simon Spesso e volentieri Ha fatto anche Contrabbando Certo Ok signor Barone Quante volte abbiamo Indagato Proprio sulla posizione Di Simon Sul fatto di Contrabbando E oltre contrabbando Appunto Corruzione Nello Stato Quante volte abbiamo Indagato Non tante volte Ma avete Indagato Ok Però in questo caso Le faccio una domanda Che secondo me È importantissima E beh Secondo lei Quello che sta dicendo L'avvocato Avversario Cioè Il difensore Del signor Felipe Potrebbe essere vero Che signor Simon Ha mentito Su questa cosa Per incastrare Signor Felipe Vescova Sempre Per quanto riguarda La religione Giusto? Sì Secondo la religione Secondo il suo punto di vista Da barone Credente Non totalmente Ma parzialmente Sì Ok Signor Giulio La religione Non può essere Mettere La cura Hai detto quattro volte Basta E voi che continuate Questa cavola di religione Che non ha senso Scusate Non ha senso Perché Ha senso Perché la religione Di statua È sempre L'antico Dio O mi sbaglio Sì Ma non ha senso In questo caso Metterla In mezzo Sono dei fattori Da considerare Sono dei fattori Da considerare Io ho finito Comunque Con i testimoni Ma che significa? Vabbè E quindi Che succede Va bene Rimandiamo Rimandiamo Il processo Non è assolutamente vero Non esiste È chiaro Una domanda Signor giudice Signor giudice Voglio fare un'ottima cosa Effettivamente mi sono dimenticato E chiedo scusa Vorrei Come testimoni E proprio Signor Simon Vorrei interrogare lui Prego Allora Signor Simon Ne faccio una domanda seria Lei quanto Lei quanto ama il suo paese Siris Tantissimo No L'altro paese Bravola Ok Ok Cosa farebbe per il suo paese Tanto Se è andato a combattere il mio paese Quindi Le faccio una domanda più chiara e netta Lei sacrificherebbe o Siris per il suo paese? Signor giudice Le mie domande sono finite qui Arrivederci Beh pensi Il giudice deve scegliere Deve decidere la sentenza No aspetta No la sentenza Ma mi scusi È anche giusto Che l'avvocato del difensore Però Chiama i suoi testimoni Eccetera Tu sei l'accusata Tu sei l'accusata Ha detto di no Che no Non sacrificherei O Siris Per Signor impero No ci hai messo troppo tempo a rispondere Tra di tu Io vorrei Comunque è giusto Che anche l'avvocato Faccia le domande E chiamo i suoi testimoni È l'unica parte Che ancora non ha detto niente Dono i tu L'avvocato La difesa La difesa Sì Deve fare solo la difesa E poi puoi aggiornare La cazzo di corte Gesù Cristo Chi vi ha insegnato Diritto Non tanto tempo Avremo un problema Noi non abbiamo attualmente online I testimoni Per la difesa Ma ce ne sono testimoni Rimanderemo il processo Ci sono testimoni Faccio attenzione Allora Uno dei testimoni Per quello che ho capito È il fratello Che aiuto Sì ma ce ne sono altri In questa stanza Puoi chiamare anche me Allora chiamo il signor Orvale Il signor Orvale Il doge Va bene Mi dica Signor Orvale Eh Non ti sentiamo Devi fare domande Stella Devi difendere Devi chiedere Eh Prima di te non sto parlando Ma il microfono è salvo Eh Non ti sente il microfono Ok Ti sentiamo Stavo cercando di fare la domanda Mi dia un attimo Signor Orvale È vero che il signor Ioto È un fedele soldato di Osiris Ha sempre affiancato il suo popolo Sì sempre Ha sempre combattuto per noi Allora quale sarebbe il suo motivo Per truffare il signor Giampizza Io lo rappresento Il motivo per cui potrebbe truffare il signor Felipe È perché comunque Ho visto spesso e volentieri I battibecchi tra loro Soprattutto nel mondo del lavoro Ok Ok ma in questo caso Non ci sono nessun Nessun motivo Azioni valide Per poter accusare No Se sono religiose Se intende quelle religiose Per me è un no netto Non credo che siano Non sia stato truffato Per questioni Secondo le mie I fonti Signor Ioto Le nostre due religioni Erano in pace Per quello che Mi è stato riferito Dal mio cliente Qui Beh è una falsità assura Le fedi attualmente sono neutrali E non sono mai state Esatto Non abbiamo Neutrali non vuol dire in pace Allora Io posso essere sincero Comunque non mi piace il signor Felipe Che continua a parlare Il signor Giudice Mi sembra quasi Irrispettoso Nelle confronti Dell'avvocato difensore E della persona Che sta appunto testimoniando Capito? E ho ragione Io ho segnogliato Nonostante i suoi I suoi Come si dice Precedenti Di multe Eccetera Comunque si è dimostrato Un buon fedele Un buon cittadino E un buon soldato Pronto a difendere La scala tratta Sì questo è vero Il signor Simon Si è sempre dimostrato Un buon cittadino E non ci sono prove Per accusare Il fatto che Delle ricerche Allora posso obiettare Questa cosa Quindi la ricerca Lui l'aveva Vorrei un attimo Vorrei un attimo Dire la cosa giusta però Che sia stato un buon soldato E ha combattuto Sempre per il nostro Proprio è giusto Che abbia fatto Sempre delle azioni Illecite E si è comportato male In città È vero E ci sono tanti Testimoni in questa stanza Che Simon è stato Arrestato varie volte Per appunto Comportamenti irrispettosi Verso le altre persone Quindi io non voglio fare Quindi io non voglio fare una questione Di fede Ma che possa Effettivamente Messo a rischio La reputazione Del signor Felipe Potrebbe essere vero Non dico che è vero Ma potrebbe essere vero Ok Io dici che non ha chiamato I testimoni Mi sembra che sia Comunque l'avvocato di Signor Felipe Non l'ho mai visto chiamare A Panze L'abbiamo chiamato noi Signora Sdrubale Ok Signora Sdrubale Comunque di solito L'avvocato difensore Chiama anche Quello che sta accusando Fai domande Vabbè In effetti Non c'è accusato Vai Vabbè Lo puoi fare in casa Devo fare o non può? Decidi Decidi Prima che si siede Il signor Felipe Se ha Devi finire Devi finire la sua parte Perché poi tocca a loro E abbiamo finito Vai Venga Signor accusato Ok Perfetto Allora Signor Gianfista Lei Fa diventare Un attimo La domanda Io andavo Allora Lei è stato visto Cuidare il veicolo Che lei Uno non ha pagato E due Non aveva nessuna licenza Per guidare Giusto Signor Gianfista Io sono stato visto E non in presenza L'Iotto Quindi il veicolo Non era suo Ma il signor Iotto Perché il signor Iotto Lei ha la presenza Ha la licenza Di volo Non ho capito La domanda Mi scuso L'ho vista anche io L'ho vista anche io Non ho capito La domanda Ho detto Io l'ho vista impiata A guidare Il veicolo Volante Senza licenza Giusto? La licenza Che mi è stata fornita La signor Iotto Non c'è Non c'è più la licenza Non c'è O non c'è N'è stata C'è stata Ma non c'è più Quanto ha pagato La cosiddetta licenza? La licenza È costata 200 monete Ma la licenza Non ci dovrebbe fare Scudati al comune O aiuto? A me è stato detto Da il capo Aspetta Ma in teoria Per qualsiasi licenza Per quanto io ricordo E vale No La licenza Tipo della Mario La faccio io Si fa al comune O sbaglio Allora Scusatemi Signor Dodger è ritornato Non esiste Nessuna licenza Per Utilizzo Dei veicoli Militari Volanti Gli unici Le persone Che possono guidare Questi veicoli Sono il capitano E lui Che a destra Che si unisce Alle forze Aureonatica Ecco Io sto dicendo Se mi lasciate spiegare Magari Che Non ho i camionetti Capito niente Io sto dicendo Che mi è stata fornita Da lui stesso Non lascia parlare Sì ma devo finire La mia domanda Cazzo Io sto dicendo Che mi è stata fornita Direttamente da lui Probabilmente È spacciata Come licenza Valida Che è questo Che devo dire Ma non esiste Nessuna licenza Io non lo sapevo Mi è stata fornita Da lui Visto che mi fidavo Essendo il capo avviatore Ho una domanda Io allora Mi scusi signore Se la interrompo Signore avvocato Stella Signor Felipe Perché non conosce Allora le leggi Del nostro Stato Com'è possibile Che lei non conosca Le leggi dello Stato Se lei presenta Anche a volte Le riunioni Non mi sono mai interessato La legge dell'avviazione Allora Non aveva permesso Di guidare Però Però il signor Il signor Simon Ha sfruttato Questa ignoranza A suo vantaggio Guadagnando i soldi La licenza Ma non ha messo La prova Che ha pagato Una licenza Che non esiste È la mia parola Contro la sua Non c'è molto da dire E l'aereo Appunto Che guidava Dove l'ha preso? L'aereo Che guidava Mi è stato fornito Da Simon E inoltre Suo fratello E mi ha venduto Illegalmente Altri pezzi Per l'aereo Che è l'unico Che può farli Essendo ingegnere Scusi Qui c'è un problema Che costruisce L'aereo È il carpentiere Meccanico Scusi Mi sbagliato Appunto Quindi non è Un compito E infatti Sono un compito Perché sono fratelli Il fratello E il fratello Il signor Il signor Il signor Il signor Non vende L'aereo Lo pregetto Sì E lui che progetta E vende I potenziali Sì Non è presente Eh che devo dire Questi sono i fatti Anche c'è qualcosa da dire Quei per tocco non abbiamo Nelle prove del fatto Nelle prove dei pezzi Ce le ho Perché l'unico Che può produrre lui E io ho i pezzi Quindi me l'ha fatti lui Per forza Oltre che l'aereo Ma chi mi dice Semplicemente L'ha preso Abusivamente Scusi Perché ho pagato Da lui Che me l'ha spacciato Come aereo Mi dimostri Che ha pagato l'aereo E non l'ha rubato E come faccio Secondo lei Una cosa legale Ce l'hai ricevuta Sono accuse Campate per aria Ma non è Sono accuse Campate per aria Io ho dei pezzi Fatti E le parole Scusi Ma mi lascia finire Di parlare Scusi Io ho dei pezzi Fatti appositamente Per me Essendoci solo Due aerei Probabilmente In circolazione Uno per l'avviatore Uno per me E quindi Non possono essere stati fatti Oltre che per me E per lui Sempre dalla stessa persona Che è il suo fratello Non c'è molto da dire In questa questione Nessuno può fare gli aerei Oltre lui Ci sono solo due aerei Quindi uno è mio E uno è suo Uguale per i potenziamenti Quindi per forza Deve essere stato venduto a me E quindi Non c'è da dire Che c'è? Io mi pare di aver capito Mi sembra di aver capito Un po' Che c'è? Non ci sono robe Però non ci sono effettivamente prove La licenza non è E il fatto che lui sia ignorante Sulla legge Non vuol dire Che è stato truffato Cioè nel senso Può essere stato truffato Ma se ha le prove Altrimenti Doveva sapere le leggi Sì appunto Quindi Secondo me Dovrebbero essere accusati entrambi Sì appunto È quello che faremo Vieni bene Ah scusi 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 Posso chiedere C'è la torsia Dato che La signorina Nessun amici Ha bisogno di un aiuto Se vuole Posso fare Consulenza Ma non si può cambiare Cos'è all'improvviso Se no mi ero seduto io lì No ma dico Le posso fare consulenza Quando deve decidere Ah Il tipo di È la mia Andiamo comunque Aspetta Aspetta Dov'è l'acqua Allora Essendo che comunque Entrambi sono accusati Vorrei effettivamente Anche io fare delle domande A signor Felipe Giusto Che anche io risponda E poi penso che Anche Signor avvocato Valoros Dovrebbe fare domande Entrambe alle persone Per chiarire Comunque Entrambe risponderanno Io farò una domanda A signor Felipe Signor Felipe Lei è diventato Vescovo Giusto Sì Quindi Lei Per la fede Farebbe Per Osiris In generale Che soprattutto La capitale Dell'antico dio Farebbe di tutto Giusto Sì Aspetta Inoltre Sto bene Aspetto Ok E questo Lo apprezzo Molto Ma è vero Che lei ha fatto Contrabbando Con i pirati Quando eravamo in guerra I pirati Lo solo RP Non esiste I pirati Esistevano E lei ha fatto Contrabbando Con i pirati Prima che venivano Questa informazione Lei l'ha ottenuta Senza poterlo sapere Dopo Lo sapevo già Non è vero Lo sapevo Non è vero Ma che te lo disse io Non l'hai visto ma Te l'ho detto io Perché lo sapevo No l'hai visto una volta Quando ti sei tipato Dove c'erano le mie rotaie Questo è metagaming Ma quando Non c'è una volta Quella che sei andato Ma che cazzo Le sapevo Mica era per quello Che l'ho capito E cosa le capite Perché me l'hanno detto Proprio in RP Ne abbiamo parlato Di questa cosa E quando si stavano chiudendo Quindi non è vero Vabbè Quasi alla fine Della loro chiusura Che non lo posso Ma era già programmata La chiusura Non ha senso E c'era Sempre faceva contrabbando Giusto? No Sì ma non lo puoi sapere Ma come non lo posso sapere Ma ti sto dicendo Che lo so Che eravamo appunto Di arrestarti Eh ma se non ci sono più i pirati Non ha senso Questa informazione Vabbè Lasciamo Facciamo finta Che non abbiamo detto questo Vai Mamma mia È vero che lei ha fatto Anche contrabbando Di minerali E altri tesori Sotto banco Vendeva certe cose Che non poteva No No? Com'è possibile no? No Ah no? Io non ho mai venduto Minerali e tesori A qualcuno E perché la polizia di stato Eri ricercato Era Eri sotto accusa E spiato Proprio per queste cose Non me lo chiede a me E dove chiede alla polizia di stato Ok Ben Mi risponde a questa cosa Ben Sono razzissimo Ben Ben Sono razzissimo Hai zitto No Questo è andato Vabbè Dov'è Vorrei chiamare allora Gilberto Aspetta Aspetta Signorina Io ho qui testimone Signor Gilberto Che spesso e volentieri Sono arrivate Varie persone A parlarci proprio Di felive Sul tuo contrabbanto Di oggetti Che non potevi vendere E di corruzione Quante volte Signor Gilberto Sono venuti Alcune volte Sì Non gli chiede Forse È grave È vero È vero È vero È vero È vero Ok È vero Giusto Mi scusi Quante volte sono stato accusato Ho chiamato al tribunale Ho denunciato E nessuno mi ha mai presentato Sei stato denunciato E che hai pagato anche le multe Siete vendicato alle multe pagate Eh sì Non ho No io dico Mi riguarda il contrabbando Il contrabbando Non possiamo fare Non ti posso dire tutto Il contrabbando Visto che mi hai tagliato Ma non mi avete mai beccato O denunciato In qualsiasi modo Quindi no Non ti abbiamo Non ti abbiamo detto Che ti abbiamo beccato Ma ci sono testimoni Che hanno Se magari quello tornava Magari È morto Ma una denuncia Se non è dimostrata È parola Non riguarda questo processo In ogni caso Ora Vabbè Ci sta quello Se dobbiamo riaprire Tutta la casistica Sotto il ruolo Di ognuno Non finiamo più No ma non c'entra questo Era per arrivare Era per arrivare Al succo Chi mi dice Che Felipe Non è lui Che stia mentendo Perché non vuole Finire nei guai Lui? Signor Felipe Sì Sì Aspetta Aspetta Fagli farla domanda Fagli farla domanda Vai Eh Il signor Felipe Non sta mentendo Perché È letteralmente Il custode Della verità È È lui che abbiamo Nominato vescovo E che Sta Che rappresenta L'antico dio Qui a Osiris Assumere Che gli menta Ok E che stia facendo Questa cosa Per tornare al conto Personale E in qualche modo Offendere il rappresentante Degli dai Qua Del dio qua Abbiamo una religione Di stato però Allora sì La religione di stato È questa Ma chi dice Che con una religione Di stato Non ne approfitti Per avere più potere La poni a me La domanda A te l'ho fatta Infatti Eh no Volevi fare la domanda Rispondo Non l'hai fatta Allora Allora Dimmi Se tu sei veramente Il capo di fede Chi dice Che tu comunque Non possa Fare corruzione Di nascosto Per avere più potere Io non ho detto questo Io ho semplicemente detto Che mi sei stato fornito Del materiale Illegale Sotto banco E che io l'abbia usato Quello è imprescindibile Ma io l'ho usato In buona fede In convinzione Che si potesse Ok Io ti faccio una domanda Allora ti faccio un'altra domanda Perché non era a conoscenza Delle leggi Visto che lei rappresenta Non c'è nessuna legge Non c'è scritta nessuna legge Attualmente C'è scritta una legge Su chi può volare Sì Ok Non era a conoscenza Allora Sì E quindi Tu non eri a conoscenza Perché non dobbiamo punirti Allora in questo caso Anche se tu non conosci la legge La colpa di chi è Che ha guidato comunque un aereo In modo Sicuramente posso essere punito Ma posso essere punito In buona fede Non in mala fede Quindi è diversa Certo Questo nessuno dice il contrario E in questo caso Comunque stavamo Accusando Da il signor Iotto Simon Per quello che ha fatto Ma il signor Simon Sappiamo quello che abbiamo fatto Che ha fatto Non mi sembra Che non ci sia La questione La questione Adesso rigate Adesso rigate Ben Signor Ben Volevo farle una domanda importante Che lei sicuramente sa rispondere Sì Non è vero che noi stavamo indagando Sul signor Felive Per corruzione E per contrabbando Sì Ok Da quanto tempo Che siamo alla ricerca Di queste informazioni Beh Da un bel po' di tempo Diciamo Ok Non è vero Ripeto questa cosa Non è vero che noi Avevamo una piccola conoscenza Sul fatto La rimetto su giusto Per far capire Che alla fine Non stavo dicendo una cazzata Che il signor Felipe Faceva contrabbando Con i pirati Non ne avevamo parlato In RPE Sì Appunto Vedi Ok Oltre questo Oltre questo Chiudiamo questo capitolo Perché è giusto chiuderlo Comunque in caso di questo Io l'avevo fatto Prima di diventare vesco Quindi non c'è Sì va bene Ma no Vabbè Comunque Oltre questo Ok Noi abbiamo parlato E chiacchierato Di questa cosa Le faccio un'altra domanda Ben Quindi A sua Secondo lei Il signor Simon O il signor Felipe Chi dei due sta mentendo Beh Intanto non sono insuice Però posso dire Sulla mia Che diciamo Che il signor Felipe Ha fatto un Davissimo errore A portare Un cazzo di aereo Un cazzo di aereo Mettendo in pericolo Tantissime persone qui Tra cui anche Il signor Povero Caneo Borraccio Che si è fidato Ha salito lui Mi sono Spontaneo Ah ok Allora Ok Era a conoscenza Quindi era a conoscenza Che tu non guidavi Non avevi Nessuna possibilità Di guidare Questo non lo so Lui è solo salito Ok Vabbè Diciamo che Però è da lei Che portavo l'aereo Quindi è lei Che ha messo in pericolo Tantissime persone qui Metti caso Che l'aereo magari Aveva qualche problema E cadiva Su qualche casa Lei metteva in pericolo Tantissime persone qui Quindi io direi Da capo poliziotto Di fare una bella multa Allo signor Felipe E di Devocare La licenza di Navigatore Allora Aspetti Aspetti Questo Questo prima di tutto Ci decide il giudice No Sulla mia No ma questa è una mia opinione Ok Io faccio l'ultima domanda Poi lascio la parola Agli avvocati Ultima domanda Poi lascio la parola Agli avvocati Io rimando Signor Giudice Vorrei rimandare la sentenza A quanto è presente Il fratello di Yacht In questo momento Sì ma io vorrei aggiungere Esatto In questo modo Poterci difendere In un buon modo Sì ma io voglio Non può essere presente In questo momento Ma l'accusa Non è sul fratello di Yacht Ma su Yacht Quindi non c'è Sì però è il nostro testimone È lui che si occupa Io vorrei altri testimoni Che non sono là Ma non è che Sto là Sì ma Infatti Questo Infatti direi Che è anche ingiusto Comunque nei confronti di Felipe Che non ci sono tutti Quindi comunque Sono entrambi pari Però vorrei aggiungere Un'altra cosa Signor Giudice L'ultima poi Parlano gli avvocati E finiscono là L'ultima fase E tu deciderai Quello che vuoi Io voglio fare L'ultima domanda Mettiamo caso Il signor Simon Ok Il signor Simon Ha venduto Quest'aereo in modo Illecito Illegale Il signor Felipe Lui è il suo fratello Ok verranno puniti Ma il signor Felipe Signor Felipe Ok io qui voglio arrivare Il signor Felipe Ha guidato un veicolo Che non poteva guidare Lui Non ha Non conosceva Le leggi del suo paese Qui C'è un problema grave Una Una persona Che lavora Entra nel nostro parlamento E viene a fare A cambiare A modificare le leggi E non ha conoscenze Delle leggi Con cui lavora Per me è un fatto gravissimo Anche se Simon Ha tutte le colpe Una persona Che lavora Al comune E non ha queste conoscenze Deve essere punita Nello stesso modo Perché Ha guidato Un veicolo Mettendo a rischio La vita Del signor Craneo Borraccio A sua discolpa Non so se Non conoscesse La Felipe Che guidasse Il veicolo E in più Vorrei aggiungere L'ultima cosa Appunto Ha messo a rischio Edifici Ha messo a rischio La sua vita La vita Del signor Craneo Borraccio E la vita Degli altri Questo vorrei far presente Se posso dire Mi è stato insegnato Dagli otto A guidare Essendo che ho guidato Insieme a lui Quindi non è stato A rischio Nessuno Allora Io Guardo Il fatto che Sono d'accordo E riceveranno Le altre mie punizioni Poi In modo diverso Chi più che meno Ed attornare Con altre persone Sì signor Giudice Però un'altra cosa No in questo caso Ha aggiunto una cosa Che secondo me Felipe ha detto Che il signor Simon Ha insegnato a volare Io vorrei sentire L'avvocato della difesa In questo caso Vorrei sentire L'avvocato della difesa Qui ho sentito Addirittura Che il signor Simon Ha insegnato A guidare il signor Felipe Ha insegnato Nel senso Che guidava lei O guidava il signoriotto Ci sono state più occasioni In cui lui ha guidato Insieme a me E io ho guidato Insieme a lui Ok Vorrei sentire Simon È vera questa cosa Simon Cosa? Che Quello che ha Come cosa? Cosa? Sto ascoltando Ho detto che più volte Abbiamo guidato tu Io stavo guidando E tu eri dietro E tu guidavi E ero dietro Che tu hai insegnato A lui a guidare No Ma Li hanno letteralmente Visti Li hanno letteralmente Visti guidare assieme Io ero dietro Ma sta chiaramente Ma intendendo Ci sono testimoni Ci sono testimoni Aspetta Che io ho imparato A guidare Io ho imparato A guidare Non vuol dire niente Io ho detto Che in più occasioni Io ho guidato Insieme a te E tu hai guidato Insieme a me E io ho imparato Così a guidare Io non ti ho insegnato A guidare Io ero solo dietro Ma rispondi A quello che ho detto Ma Niente Signor giudice Vorrei dire L'ultima cosa Che adesso Mi ha fatto ricordare Il signor Ben Il signor Ben E il signor Simon Entrambi Testimoni di questa cosa Hanno ascoltato Il signor Felipe Lei è stata scelta giudice Perché doveva essere Dan È stato ascoltato Il signor Dan Parlare che il signor Felipe È di corruzione E corrompere il giudice Per vincere la causa Ecco Questa è una cosa Da dimostrare L'abbiamo dimostrata Abbiamo due testimoni Ben E Simon Che ne ha ascoltato E poi sono stato pure aggredito Dal signor Dan Mi ha aggredito Io non l'ho aggredito Hai delle prove E come fai Scusa È la parola È la parola Contra la tua In realtà Eravamo presenti Io Il signor Ben Il signor Vintas Il signor Panzer E il signor Luke Ed eravamo dentro la chiesa Io dubito che Un membro Della chiesa Aggredisca Persone a casa Che passano Ah quindi Lei era lì Quindi anche l'avvocato È corrotto No Io ero in chiesa Era in chiesa No no Allora No aspettate Il signor Luke Posso parlare Essendo un'accusa Rivolta a me Mi scusi Ma in realtà sarebbe Rivolta a me Vabbè E a tutti e due Ti vorrei dire un'accusa Vabbè Lo prendo come un sì Allora Visto che Ben Essendo un sottoposto templare Non parlavamo di corruzione Parlavamo di un pagamento Della giornata di biavolo da templare E nient'altro Da quando i templari Vengono pagati? Eh da sempre Non lo sapevo Di tasca mia Non di tasca dello Stato Non si pronuncia Boh Io mi siedio Signora Signor giudice Io ho finito le mie domande Scusate Scusate Vorrei dire una cosa Quindi praticamente Mi è stata negata La possibilità Di condurre Questa Questo Come dire Questo processo Questi processi Sperate 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 Perché Ho chiesto il pagamento La mia paga Giornaliera Al mio capo di lavoro Tuo capo di lavoro Da quando è il tuo capo di lavoro? La fede è diventata capo di lavoro Io ho due capi di lavoro Il signor Felipe Come templare Lei Come capo di Stato Siccome sono Quindi praticamente Io sono corrotto anche dallo Stato Basandomi su questa cosa Allora No no Ragini la cosa Ma la questione è così Se l'accusa è Ah tu Felipe Mi stai pagando Allora sono corrotta Allora anche lo Stato Mi sta corrompendo Come funziona Questa accusa? Una melamarcia Non può accadere l'albero? Sono dio Ma che proverbo è? Ma che proverbo è? Ma che proverbo è? Che proverbo è? Che proverbo è? Allora Visto che io Siamo uomini da fare E che ci siamo messi Anche in solità E quando mai Allora Allora Alla sotto banco Ah beh Questi dettagli Se lo avessi qua Tenne Però Ah qui c'è un'altra accusa Da fare Allora Allora Se posso dire Alla 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 È macchiata la mia personalità Io richiedo un sarcimento morale Ma che risarcimento morale? Certo Ma che caro ti ha detto È stata negata La possibilità di condurre È stato macchiato il suo nome Giustamente È stato macchiato il mio onore Di conseguenza Io richiedo un risarcimento morale Ok Capito Li accusi E poi girano la frittata Questi qua Ah letteralmente Ci sono due testimoni Che hanno proprio sentito Cioè C'è bene Ecco Un testimone Ma ha letteralmente detto È vero Mi ha dato la faga Cioè Ha letteralmente detto questo Signor Ben Non ci sono testimoni Insomma Signor Ben Tu hai detto C'è una mea Infatti Tu hai testimoni Che cosa avete sentito? Appena detto Se ascoltate Canon Appena detto Dici Ben Cosa Cosa hai sentito? Tu hai visto E hai sentito Che mi stavo Stavo corrompendo Signor Ben Ho sentito Che lei Signor Felipe Stava dando dei soldi Allo signor Ben Però poi giustamente Io e il signor Abbiamo fatto un discorso E abbiamo pensato Che magari Lei stesse corrompendo Però lei Sta dicendo No a me non è mai stato detto così Obiezione Signor Ben Il testuale mi ha detto Testuali parole Testuali parole Mi ha detto Che letteralmente Il signor Felipe Anche Simon Me l'ha detto Anche lui Quindi se può confermare Conferma dopo Il signor Felipe Era condenna Che parlava appunto Di corrompere il giudice E dargli i soldi Assolutamente No Io ho richiesto Il pagamento Da templare Io non sapevo Che il suo den Pagliessi il templare Quindi Ma come? Non lo sapevano Che cazzo Ma io ma la pena So cosa sono i temblare Allora io Me ne vado Non basta Io penso che sia finita La sentenza Signor giudice Decida Io richiedo Il mio Si sa c'è niente Magari Stiamo parlando Di Felipe Non di te Signor giudice Asceggo Abbiamo già detto Che hanno sbagliato entrambi Ed entrambi Avranno delle pene Aiuto Aspetti No Poi 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 Non so Quali Di preciso Perché mi devo aggiornare Con la mia corsa Che non so chi è Per le pene Con Si Magari Un po' Ressiamo Stai in boge Mi devo aggiornare Con l'oro Adesso Nati Dai Ti 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 Deve aggiornare Tutti fuori Tutti fuori Che cazzo Tutti fuori Non mi ha discututo Un minuto Un minuto Quindi Che sa da fare Ok Allora La cosa più grave Ovviamente Si È quella di Sai Felipe No Felipe Che non sa le leggi Ah Vabbè Questa Sapeva Che non poteva Far Giudare Gli altri E ha ammesso Di aver fatto guidare Per me Quindi secondo me Gli 8 Ma quella peggiore Poi A Felipe Media Perché Comunque Non sapeva Delle leggi Scusi Ma noi stiamo parlando Di legge C'era Sto facendo Una riunione Lei venga Qua disturbare Ma è pazzo No Non mi vorrei Disturbare Vorreste Parlarle Conte Disponibile Tra un paio di minuti Il tempo che finisce La Scusa Filippo Non sapeva Le leggi Anche fosse Anche fosse Stato truppato Cosa che non ha provato Perché non ha portato Documenti Non ha portato Niente Anche fosse Stato truppato E' stato truppato Perché lui Non sapeva Le leggi Quindi comunque Un coso Va anche Tra lui Poi onestamente Dan che viene A chiedere Risarcimento Morale Per una roba Di una seconda Vabbè Dan è un clown Non so Ok Vabbè Ragazzi Chi ha Ha paura Della Revoca Della patente No Non ha capito Se deve essere Multato Per la corruzione Ora ci penso io Dai ci penso io Allora Ad entrambi Festa La galera Eh abbiamo scelto Scusate No Non abbiamo deciso Le pene Proprio le pene In sé Ma è facile La pena È semplice Allora Filippo Paga la multa Chi è d'accordo Della revoca Del Siamo Chi è d'accordo Tutti Tutti A portale Multa E revoca No In galera Secondo me È esagerata No no Sì Perché Perché Lui ha fatto Delle cose Che non doveva fare Tipo far guidare Filippo E l'ha messo Ok Ma per quanto tempo Ok Eh beh Non lo stacchiamo Che senso ha A metterla in galera Appunto Prossima sessione Prossima sessione Sta in Ok Quindi Filippo Come procede E revoca Della patente Di guida Di guida Vabbè Esatto Felipe Multa Per non conoscenza Delle Delle leggi Quindi questo E basta No aspetta Io aggiungerei un'altra cosa Che il signor Felipe Non potrà mai più guidare Un aereo Ma se non lo può fare più Simon E anche lui Quindi non ci sarà più No Potrà mai più fare Una patente Se ci sarà Non lo può fare comunque Non ci sarà Comunque Non esiste una legge Per fare una patente Quindi non C'è uscito E non ci sarà mai Perché lo possono fare Solo all'aria In attica Ok Andiamo dai Eh ma aspetta un attimo Doce Ma se il signor Simon Viene evocata la patente Dopo Chi cazzo Quattro E quello che ho detto io Se nessuno la può usare Allora chi Arrestiamola Non abbiamo gente Che guida all'aereo Ci serve La porto io E raga però Ammessa la sospensione 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 Per due sessi Teoricamente Se proprio possiamo dire Lui dovrebbe essere tolto da ruolo Perché ha fatto una cosa Che non doveva fare Ma poi tu Metti Simon Ma infatti È sbagliato Questa cosa E appunto Sospensione Si prende la sospensione Se lo rifare Una revoca Una revoca totale Secondo me dovrebbe essere Una revoca totale Perché lui ha ammesso Di aver fatto guidare Lui Ma io non ho mai Ci ha detto che ha ammesso Senza Ascolta Nell'ultima cosa Quando lui Quando è stato chiesto Quando lui Quando Come si dice Felipe l'ha accusato Dicendogli È vero che Io Tu mi hai fatto guidare A me Mentre io ero dietro E io Tu guidavi tu Mentre io ero dietro E tu mi insegnavi A guidare Lui gli ha detto Lui gli ha detto Lui ha detto Testuali parole Se lui guidava Io ero dietro Ah ok Si è inculato da solo L'ha detto A posto Cioè che cazzo Andiamo andiamo Potete entrare Potete entrare Eh Vai vai Annuncio io la sentenza Annuncio Annuncio io la sentenza Allora partiamo dal signor Felipe Mannaggia Maron Scusa Non dico Dio Scusa Non c'ha Offesa Non dico Dio Allora Non dico Dio Allora Allora Il signor Felipe Ah il signor Felipe In questo caso Avrà la pena minore Cioè Verrà Dovrà pagare comunque una multa Perché anche se il signor Simon Ti ha Tra virgolette Truffato Ma non è così Se semplicemente Uno È una scusa Dal mio punto di vista Comunque sei Addetto a pagare una multa Per uso di un veicolo Che comunque non potevi fare E per il semplice fatto Perché comunque le leggi Dovresti conoscerli Anche se tu non le conosci Non è un nostro problema Dovresti E vabbè Quanto è l'euro? La multa La multa? Aspetta Prendi un attimo Aspetta Aspetta Gesù L'accordo Ma controlla la legge Non l'ho capito Mezzo? 100 stack di rame Grazie Sì dai Fa' pure Allora Ok eccolo Quello che riguarda Uscire da Villà Non sono l'unico Lo so infatti Sei bastardi Tu sei papa e dovessi rispettare la regola Non è che sei Allora Ok ho visto Allora essendo che comunque è abbastanza grave quello che hai fatto Il massimale è comunque Aspetta il massimale è 400 monete Noi ti chiediamo 350 È assurdo Ma esiste una multa per questo? Io non l'ho mai vista Sì ci sono Il veicolo non utilizzato Il veicolo è legato Ha una quantità immensa Se non esiste la multa non capisco C'è la legge C'è proprio scritto È legge Non rispettare la norma delle proprie abitazioni Ok? Sì O delle attività Quindi in questo caso tu non stai facendo quello che riguarda il tuo ruolo Si subisce una multa che va tra i 60 e i 400 monete di nome Un'attività L'attività volare Dipende dalla gravità della situazione Sì ma l'attività volare non è un'attività che c'entra Eh ma non c'è proprio una cosa precisa precisa Sono trovato lo spaccato È un colpo dello Stato che non ci sono le leggi Comunque all'interno di sentenze si possono anche fare delle No non è vero Le vulte Sì Ci sono delle norme da rispettare No ma molto spesso si può anche No non si fa come si vuole No non si fa come si vuole Spesso si può anche creare ad hoc al momento su quella cosa No non esiste Non ho fatto il genere Se hai una costituzione non puoi farlo Capite non siamo in America Infatti Di conseguenza le cose non vengono a questo Con questa cosa ha sbagliato il signore Capri Però comunque tu hai messo in pericolo le persone Eh ma se non c'è una cazzo di multa Una norma che mi dice quando deve essere multa Allora non c'è una norma che ti multa Però c'è la legge che puoi evitarlo Allora chi è che decide quanto è la multa? Eh te l'ho detto Se vuoi faccio un massimale o un minimale Quindi 350 va bene Cioè tra 60 e 400 La media è 350 No No ho fatto La gravità della situazione Quindi non faccio un massimale A parte in realtà non è manco una legge Ma è proprio un regolamento RP del service È scritto Gli aerei sono utilizzabili Soltanto da esploratori Caccia Tra parentesi cacciatori per scopi di esplorazione Che fa parte del seguente ruolo aeronautica Per dirti L'unice che possono usare gli aerei Che hanno il permesso Sono proprio quelli cacciatori C'è proprio una regola questa Oltretutto Però metteremo una legge Perché giustamente voi parite in palla E io devo fare legge anche su cose che c'erano una regola Comunque Facciamo 300 Dammi si 300 E te ne puoi andare La prossima data Le pagherò Lo scrivo nel libro Tranquilla Lo scrivo nel libro Signor Simon Ok signor Simon Lei è quello che ha fatto la cosa peggiore in questo caso Perché si è auto Ti sei auto accusato Quando il signor Felipe ha letteralmente detto Era lui dietro di me che mi insegnava E mi ha inseguito E tu hai detto praticamente sì Cioè che alla fine è vera questa cosa Tu hai permesso un civile Di usare un veicolo Che non era idoneo a lui È vero quindi Questa cosa No conferma penso Ormai è andata Ormai è andata Quindi purtroppo Lei sarà quello più punito In questo caso Con una multa In questo caso Facciamo pari comunque Quella del signor Felipe 300 Ma oltre questo Ci sarà la revoca Come capitano dell'aeronautica E arresto di due giorni Di Minecraft Venerdì Non ritenite ragazzi Anche te aspetto Per il signor Sard Sì Ti stai aspettando C'è sempre la cella lì Ma venerdì non adesso Col cazzo che ti mette Metto a scrivere le multe Dovete pagare le multe Arrivederci Potete pure andare a fare in culo Questo che cazzo Ci fa sto zingaro qua Diciamo semplicemente Che l'ho stato E l'altro Perché Ah vero Dan Anche tu sei accusato Allora Dan Tu devi pagare una multa Invece di 150 monete Per aver accusato lo stato E chiesto E storso denaro Allo stato No stavo scherzando Eh non l'avevo mai pagato niente Scusa Sei zitto Dan Sei un corrotto Allora visto che sei un corrotto Non ti pago più lo stipendio Visto che posso darti i soldi Hai visto? Grazie Tu ti lamenti pure Sono pagato la multa Perché hai messo in pericolo le persone E' zitto Mi soffrigo poco nessuno Quello che la pia Io direi che il signor Dan Può fare anche il capo della Magari che la prossima volta Lo fa anche C'è anche il vestitino C'ha Vada Eh chissà Questo fa Marinaio Arenatica Pittore No si toglie dal marinaio Tanto è inutile Ah è vero Effettivamente Vuole sentire capitano arenatica C'hai già il vestitino Tu già c'hai il vestito Sei scemo no? No Dan Ritmiati i marinaio Il resto solo Assolutamente Vabbè ragazzi Pulita cosa Dov'è vintage qua? Sono qua Di vita Eh sto qua Non mi sto molto Ok Dimmi Guarda vai che ce l'ho molta Penso che qua dentro ci sono i soldi Che ho comprato Questa da te Come buttare i soldi Bravo signor Simon Si ma hai perso la caricata arenatica Sei proprio un coglione Perché è andato via C'è stato No sei tu coglione Che è ammesso Che hai fatto il peccato Dove dire Dovevi dire No non è vero Non è vero Quando lui guidava Io stavo Ma l'hai detto prima Te l'ho trovato lì a sentire Stanno bene Ragazzi Stanno bene Mi fatteremo la patente Eh vabbò dai Signor Doge Puoi spavarla? Certo Signor Doge Io mi candido Come Mi candido Se vuole Come Diciamo Come giudice Ma Questa è la prima volta Che lo facciamo Non so se ci saranno No Altra occasione Perché a me piace troppo Allora faremo in modo Che arrestiamo più persone Sì Sì Io voglio fare il giudice Ahia È che ci manca Ci manca il punto Purtroppo Allora se non si organizzano meglio Le cose ragazzi Eh appunto Mi fate sapere meglio le cose Voglio Voglio Ma posso riprendere Ma posso riprendere la carica io? Cosa? No No Ma poi tu Che ti autoaccusi da solo No dire di no Sei bandito a vita Dal capitanato dell'Aronauta No no Capitano Come filofan Ah anche Hai palle Sei un coglione Ti sei autobuttato Perché farle guidare Gli altri Ti piace non rispettare le leggi Prima o poi si viene scoperti E Felipe Un'altra indagata Andrò qua Prima o poi Rostiamo a Felipe Ma infatti Ma dobbiamo sgamarlo Ma scusate Ma Felipe Vende contrabbando All'isola di Blackwater Vende armature Spade che non fa lui Ah dove c'è E tu ora lo dici Cioè che stascemo Adesso lo dici Eh ma mica io posso parlare No ragazzi è vero Sta cosa è vera È come se ha venduto Ha venduto Il barone Una estocchi in diamante L'ho vista Me l'ha detto Proprio a me il barone Perché la tappa Perché non sono riuscite Nel caso Ma che è vostro Signor Signor Ma la sua parola Non vale adesso Facciamo un processo E Anche a me Non sono riuscita E se posso fare io Da giudice Questa cosa Dobbiamo indagare Signor Ben Quando arrivano i poliziotti Io sono un testimone Anch'io Mi è stata fornita L'armatura Da lui A posto Abbiamo dato i testimoni Doviamo Aspetta un attimo Parlo con il signor Ben Allora sign Dobbiamo fare il mandato Per avere il mandato Dovete fare una cosa Integgio Per avere il mandato Tutti i poliziotti Abbiamo Siris Marinai Recrutateli E dovete Spiare Il signor Felipe E il signor Barone Sì Doge Mi sono dimenticato Una cosa Di dirle In pratica Quanto prima Prima mi sono svegliato Sono passato Dalla casa Del signor Felipe E stava E stava Dicendo delle cose Sconci Con il signor Alexander Gli stava vendendo qualcosa Comunque Armature E se cose Così E me ne sono dimenticato Di dirle Purtroppo Ma purtroppo Sono vecchio E mi dimentico Allora voglio Signor Doge Voglio un tribuna Quella cosa è grave Ma dobbiamo Beccarla in fra grande Di solito Dovrebbe Mettere Mettere dentro Io direi Comunque Posso fare io Sì va bene Facciamo Mi dica capitano Vediamo Dov'è Alex Allora Allora Vorrei parlare Di questo fatto Grazie Stavo dicendo Praticamente Avevo visto Insieme al Costruttore Che c'era Un Un ristorante Sì Proprietario Sono disposto A pagare Qualsiasi somma Ma quale Ristorante Non c'è nessun ristorante In vendita Sì che c'è Qua dietro Vedete È impossibile E di calogero Ha messo un cartello In vendita Fammi vedere Ma dove sta Questo cartello In vendita No Ho detto Sarà disponibile Non lo so No È di un altro Ok Le unici edifici Che sono in vendita Sono questi Vieni a vedere Rutto cazza Piaggia Gli edifici In vendita Attualmente Sono Di qua Una domanda Mi sorge Spontanea Doge Ok No Dicevo La Dove mi sono Spontanea Il signore Alexander Ha detto Che è risposto A pagare Qualsiasi cifra Ma lei Dove li prendi Scusi Scusi È vero Come fa Meno Con il tempo Faccio i soldi Ok Ma l'armatura Di diamante Chi gliel'ha fatta Me l'ha fatta Il signor Il mio capo Pizzo Ok A posto Abbiamo un testimone Perfetto Alexander Appena Ha cantato Che il suo capo Cioè Felipe Gli ha fatta L'armatura Di diamante Aspetta Gli ha fatta Gratis Ma dove L'hai fatta tu Simon A nostra armatura No Appunto Chi gli ha fatto Quest'armatura Ah Lo sai Posso dire Un'altra cosa Doge Che ho visto Che il signor Felipe Vendeva armature Legalmente A Raka Ha visto Doge Ha visto Che io Contrabbandone Non sbaglio Doge Tempo di fare Un altro Processo Abbiamo Abbiamo già Abbato Ha scritto Le armature Che vendono Lei A Stella Aveva Un'armatura Che io Non gli ho mai Che io Non gli ho mai Fatto Gravissima Sta cosa Doge Grave Gravissima Doge Posso dire una cosa Doge Che se lei va dal barone E gli chiede di vedere La estoc Una sua spada Io non gliel'ho mai fatta Gliel'ha fatta Ah la famosa spada La famosa spada Che ha venduto Illegamente Si ricordi Doge Va bene Poi di questo Ne parleremo Venerdì Aspettate Questa comunque È la struttura Aspetta Aspetta Comunque Viene a vedere Già avevo detto Alla doge Che stiamo vendendo Robba illegale Tranquillo Questa è in vendita Anche questa casa qua dietro Ma è stata acquistata Già stata acquistata questa Cioè dalla signora Volevo E c'è un altro edificio Che può C'è in vendita Volevo chiedere una cosa Volevo chiedere Comprato oggi Un terreno Giusto Ieri Però comunque si Anche se non lo sono ancora preso Ok Come no Non è un terreno Si ce l'ho Solamente che devo ancora Vedere in che zona Dove farlo Ok Se lei compra un 10x10 Fa 40 10x10 E hai pagato 40 Allora mettiamo caso Che volessi fare Diciamo un 40x40 Per il ristorante Quanto verrebbe a fare 40 Sono 80 160 Solo il terreno Ok Per invece Per la struttura I materiali Devi prenotarti Dei costruttori Ce ne sono 3 In questa città In questa nazione Vieni con me Vieni ti faccio vedere Allora Questo vedi Quando hai in vendita Una struttura C'è scritto così Sì 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 Ok Questo è un costruttore Esempio Leggi i cartelli E ti dice Cosa devi fare Prendi il libro E ti puoi prenotare Da lui Io ti consiglio Di prenotarti O da lui Perché la sei l'altra Signorina Ha tanto lavoro Per i loro ruoli pubblici Deve costruire Un sacco di cose Per il comune Qui devi aspettare 1 2 3 4 5 6 attività Letteramente Il tempo che guadagni I soldi Per comprartela Ce ne vuole Lui comunque Questo qua Il mercantino Dell'ha quasi finito Palazzetto L'ha iniziato un po' La casa di Ken Deve cancellare Perché non c'è più Attività di Wolverine Praticamente Deve aspettare Casa di Alexander Ah ci sei tu Vedi? Avevi scritto Casa di Alexander Prendi il libro Puoi scriverci sopra Scrivi casa di Alexander Scrivi sotto Attività Alexander Come sta? Va bene Va bene Va bene Comunque è a posto Questo è Comunque sei visto Queste sono nuove edifici 1 2 Sono stati costruiti oggi Questo è il falegname E' il boscaiolo Guarda Hola Ah di Martina Comunque Aspetta Aspetta Dobbiamo parlare Da soli Ragazzi Per favore Se ve ne potete andare Dobbiamo Poi c'è Diciamo Andiamo 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 Time on Vieni qua Beh no Pesta Spada Percasci Ragazzi Carlo Andiamo A giocare A Balanant Sì Il tempo Che mi 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 Ma andate Deve andare Vai vai Voi finite Io intanto Metto un attimo Fk Subito vengo Bela la mia tela Anche pizza Ma che Buildare Il tribunale Capito che abbiamo Un sacco da fare Ma tu sei pazzi Poi si Dove lo cazzo Lo facciamo È un casino L'unico modo Blackwater Voglio il tribunale A Blackwater Così ci andiamo Spesso A Blackwater Sì ma Non adesso Pizza Ora Ci abbiamo Troppo Troppa Roba Da fare Tribunale Non è cosa Voglio Abbiamo Da fare E domani Devo testare Le mod Ecc Devo poi Vedere Se riesco E risolvere Subito il bug Al menu Dobbiamo Buildare Osiris Ma noi Ci abbiamo Troppo Da fare Sì Così ogni volta La sega Di spostare 15 persone Eh vabbè L'avevo detto Giusto per dire Una cosa carina Poi non vi piace Comunque Comunque sta di fatto Che Abbiamo da fare Ok domani Ragazzi 15 Mi raccomando Non fate Tardi Si Tegga Ben Mette di là E segni Sul suo Taccuino Ma che cazzo Sta Taccuino Ma che cazzo Ci fa Lì Ma sta Cacando Segni Sul suo Taccuino Signor Bell Allora Ci sono Nomi Noi Vediamo i nomi Allora Tanto Allora Tempo qua Stato Pagliaccio Dan Tu sai Buildare Le strutture Il fatto è che Così Ragazzi Adesso Dobbiamo gestirci Meglio il lavoro Perché Domani io faccio I test server Io comunque Domani mattina Devo andare a prendere La pratica Fai la spesa Comunque C'ho le mie cose Poi appena Mi siedo Al computer Che ho finito Le mie cose Faccio Il lavoro Su minecraft Mentre Comunque Io Metto a fare test E risolvo i bug Martina Vi prende la struttura Ve la incolla E voi Sistemate A massimo Martina Può anche uscire Basta Martina ha finito il suo Cioè Martina Finito Voi Buildate tutta la zona Sistemate quello Che dovete sistemare Fatto Nel momento Che voi avete fatto Ma così Martina Non è che fa sempre Diecimila cose Martina Può comunque dire Ok vado ad aiutare Oran Così Ci spettiamo il lavoro Intanto voi che fate quello Noi facciamo quell'altro Che comunque è un casino per noi Abbiamo tanto da fare Tanto da fare Nel senso comunque Dobbiamo Fare in modo Che il server funzioni Le mod funzionano tutte Funzionano tutto Ed è questa la parte Più rompipalle Lo sapete Nel momento Che abbiamo finito il test Abbiamo risolto pure il bug Del menu Sistemato tutta sta roba Noi passeremo A scrivere il regolamento Mentre scriviamo il regolamento Poi dobbiamo pensare anche a buildare Lo spawn Dove tutti spawniamo Dove tutto Tutti quanti iniziate la vostra Storia Ok Eeeh Niente Lo sto dicendo Perché comunque Abbiamo da fare Io penso che comunque Se tutto continuiamo Così Secondo me Per fine febbraio Riusciamo pure a farlo uscire A 7 Metà Fine febbraio Secondo me Un mesetto Ci mettiamo Poi per il trailer Non so quando farlo Perché effettivamente Io mi voglio un po' Vedere gli altri trailer Di minecraft Come sono fatti Così capisco effettivamente Cosa fare A professional website Mi metto a vedere i trailer Eccetera Questa era un po' La cosa che volevo dire Comunque E' torniamo ad agli altri Oggi Io voglio Noi vogliamo Ora Cosa stanno facendo Nomi e cognome Vogliamo Noi vogliamo Ora Cosa stanno facendo E non lo so Non si capisce La fatta Ma lei è ancora In contatto con loro Sì Allora Può tornare dentro Può tornarci dentro Non so Non sentite freddo qua Dito che ci sono le grade Sì esatto Sa che si è spenta Sì 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 Oh freddissimo Quanti grade ci sono qua Raga Parlate O nella sala Parlamento Tesoriere Venga Venga Allora Allora Yotto Ascoltami E tu Esci a entrarci dentro E portarci prove Quello che stai dicendo Ti daremo meno pena Te No vabbè Se il signor Samo Allora se il signor Samo Può entrare E tu c'eri dentro E tu è Si fa restare almeno Un po' di persone Grandi Noi si promettiamo E non facevate niente E non facevate niente Al momento Ai tempi Ai tempi no Poi io mi sono distaccato Quando Che cosa facciamo In questa panna Puoi fare il nostro Infiltrato In quella panna E fare amico Che lì Che è difficile Ho bisogno Di un'altra patata E vedo È difficile Faccio amico Che dobbiamo dare Un per premio Se il signor Samo Poi Il tesoriere Qui Eh Gli diamo Un per premio Poi Se fa una cosa Sai Vogliamo dare un bel premio Sì Magari La Pesso Pesso Patete Magari Potremmo pensare Sulla revoca Della petente Di Esatto Potremmo pensarci Potremmo pensarci Non ti assicuriamo niente Ma potremmo pensarci Però Però tu sei Ma devi fare La nostra petina Devi fare Però tu devi fare Il possibile Per rientrare lì Per rientrare lì E dirci tutto Quello che stanno Ma Avete già un po' L'acente Non avete Avete fatto spia Ma noi abbiamo bisogno Di te Tu sei quello Che stava parlando Su questa cosa Eh ma Sei stato bravo Hai detto quello Che dovevi Però ci servono Prove concrete Esatto E tu sei uno Di quelli che Anzi Sei l'unico Perché Hai avuto adesso Uno screzzo Con lo Stato Quindi Non hai motivo Per aiutarci Appento Comunque Il signor Dodger Qui stanno Scendo dei nomi Molto Io l'ho sentito Tutti Quindi Io per ora Me ne vado Poi me lo racconto Sì raga Si è fatto Un po' tardino Stacchiamola Ragazzi Spendendo Questa che è Ok Qua 12 gradi Se non muoio Allora Turuto Niente raga Io stacco La live E rimetto Di nuovo la live E arrivo di nuovo Tra poco Che giochiamo a Ballaland Grazie